Buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi, grazie innanzitutto a Giuseppe La Terza per essere qui con noi, per aver accettato con grande entusiasmo dal primo momento questo invito, lo ringraziamo molto, ringrazio il forum degli allievi, tutti i membri del forum, in particolare Leon Battista Borsano e Marco Signori, sempre disponibili e sempre pronti a collaborare e organizzare questi incontri. Oggi toccheremo molti argomenti con Giuseppe La Terza, già il titolo di per sé molto suggestivo, esperienze di un editore oggi ci pone di fronte a tutte le difficoltà che una casa editrice deve affrontare le sfide verso il futuro, nel mantenere appunto la missione educatrice e pedagogica che La Casa La Terza si è posta sin dal 1901. È inutile dilungarmi troppo nel presentare Giuseppe La Terza, a voi è sicuramente noto, è inutile presentare La Casa Editrice La Terza, che dal 1901 è un perno fondamentale dell'editoria e della vita culturale civile italiana. Nel discutere con Giuseppe La Terza dei temi che avrebbe toccato si poneva appunto il problema dei bassi investimenti, della scarsezza di investimenti che l'Italia ogni anno affronta nel settore della cultura, appunto di tutti i problemi che ciò causa alle case editrici che devono fare i conti con un pubblico spesso ristretto, ma comunque con un pubblico che tende ormai, in quella che volge verso la civiltà dello spettacolo, ad essere sempre più prone, succube, verso mode, che mettono da parte l'analisi, l'approfondimento di un sapere critico, di uno sguardo critico verso la realtà, che poi diventa uno dei tasselli fondamentali per la costruzione di una democrazia vitale e positiva. Io non voglio dilungarmi oltre nell'affrontare tutte queste tematiche che verranno toccate oggi. Cedo quindi direttamente la parola a Giuseppe La Terza, lo ringrazio ancora e gli do nuovamente il benvenuto alla scuola normale. Grazie. Buonasera. Grazie di essere qui. Sono molto contento di avere questa occasione di incontro con voi, sia perché La Normale è un luogo mitico per tutte le persone che io frequento, che incontro, di cui pubblico i libri, sia perché ho un ricordo personale qui, nel senso che quando stavo finendo il terzo liceo a Roma, ho fatto il liceo classico al tasso, con un mio amico, siamo venuti qui e raccontavo prima che eravamo molto attratti dall'idea di provare a entrare normale. Poi ci siamo fermati perché ci dicevano, ci avevano detto che, non so se sia vero, forse non è più vero, che la vita qui a Pisa dopo le nove di sera si interrompeva, diciamo praticamente non... come dire, era una città dove decidi di fare il Monaco per quattro anni e questo ci ha un po' scoraggiato. eravamo molto attratti dall'esperienza monacale, che peraltro è una grande esperienza, come sapete meglio di me, è un'esperienza di intensissima vita comunitaria, io sono tendenzialmente, almeno teoricamente, un comunitarista, quindi l'idea di fare una vita di comunità mi attirava molto, però poi alla fine scelsi di fare economia e commercio a Roma, quindi una cosa completamente diversa. Mi ricordo la prima esperienza di corso, andai al corso di economia 1 e eravamo, credo, in una sala, in quest'aula 500 persone e c'era un professore intelligente, molto tradizionale nel suo impianto teorico, diciamo economia ortodossa, che si chiamava Arcelli, che adottava questa tecnica interessante, cioè, volendo scremare i suoi allievi, faceva la prima lezione totalmente incomprensibile, cioè si rivolgeva a noi come se avessimo già tre, quattro anni di economia alle spalle, quindi citava persone, formule matematiche, teorie, con grande disinvoltura. Non era forse il modo più corretto, diciamo, di approcciare i suoi studenti, ma certo aveva un effetto immediato, perché alla seconda lezione, da 500 che eravamo, eravamo rimasti in 70. E devo dire, la fortuna di quell'università che feci è che mi laureai poi con Federico Caffè, forse qualcuno si ricorda di quell'economista che scomparve in circostanze misteriose, piccolino, che una sera lasciò sul suo comodino gli occhiali, le chiavi di casa e tutto, e scomparve. E lo ricercarono in molti, in molti suoi allievi, e non lo trovarono. Federico Caffè era una persona un po' misteriosa, era una persona che ha vissuto per l'università, entrava all'università alle 8, non era sposato, era praticamente un nano con un attestone enorme, entrava all'università alle 8, usciva alle 9 di sera, viveva con la mamma, poi quando la mamma è morta è vissuto con un fratello malato, ed era una persona di una libertà intellettuale straordinaria, straordinaria, sempre o quasi sempre del tutto imprevedibile nei suoi giudizi. Era la persona che ha portato in Italia, ha tradotto, ha portato in Italia l'opera forse del più grande economista del 900, John Maynard Keynes, che era a sua volta un eterodosso, sapete che Keynes viveva a Bloomsbury, conosceva Virginia Woolf, frequentava Litton Strachey, era un signore aristocratico nei modi e nei gusti, ma del tutto libero e radicale anche nei suoi giudizi sull'establishment inglese, criticò fortemente gli accordi dopo la prima guerra mondiale, capì che quegli accordi vessatori verso la Germania avrebbero posto le condizioni perché poi sarebbe squilibrata l'atteggiamento dei tedeschi o comunque l'opposizione la Germania di confronti ad altri paesi. Insomma, un economista geniale che fece negli anni trenta l'opera fondamentale per il pensiero successivo, che si chiama la teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta, che poi ha determinato a posto le basi del welfare state del dopoguerra, cioè dell'idea che una sana economia non è, come si pensava prima un'economia che mette da parte i soldi, che risparmia per poi spenderli come la formichina giudiziosa, ma che in condizioni di crisi e di disoccupazione bisogna invece fare quello che si chiama deficit spending, cioè investire, fare grandi lavori pubblici, rilanciare la domanda. E da questo punto di vista è molto importante che lo Stato assicuri a tutti una condizione minima di cittadinanza. Sono temi che sono stati abbastanza ovvi in Europa per trent'anni dopo la guerra, fino agli anni Ottanta, agli anni Ottanta è cambiata il senso comune, non soltanto l'opinione prevalente degli economisti e siamo entrati in un periodo in cui si pensa che lo Stato debba cercare di tenersi fuori dall'economia e che siano i privati a poter meglio gestire il mercato. Oggi che siamo in una fase di crisi economica, questa opinione è rimessa in questione dopo i danni causati anche dalle speculazioni finanziarie e siamo in un periodo molto interessante perché siamo in un periodo in cui c'è una battaglia delle idee per capire se questa parte del mondo uscirà da questa crisi, come sta facicosamente provando a fare, con le idee prevalenti nell'ultimo periodo o con idee nuove. Questa introduzione l'ho fatta per dire che i motivi per cui sono qui, sono contento di essere qui, sono appunto non soltanto che la normale è un mito, non soltanto che ero venuto qui con l'idea di fare lo studente, quindi ho sempre invidiato la condizione vostra come di chi lavora o studia in un college, di essere parte di una comunità di scopo, diciamo di fine, cioè lavorare e stare con altri non perché si è nati tutti in Val Camonica, ma perché tutti si vuole arrivare a un certo obiettivo, diciamo di conoscenza. Ma c'è un terzo motivo, cioè che oggi come oggi la vostra scelta, la scelta cioè di frequentare un'università come questa, mi sembra una scelta piuttosto sovversiva, nel senso che non mi sembra che sia coerente con quello che io vedo come la caratteristica principale dei nostri tempi, che è quello di cercare come dire un utile immediato, un riscontro immediato alle proprie azioni, un'efficacia immediata, un'efficienza forse. Chi sta qui credo faccia un investimento su se stesso a lungo termine, indipendentemente dal fatto che possa pensare, diciamo, comprensibilmente di fare un lavoro di insegnamento, un lavoro universitario. Ma certamente, come dire, la gratificazione a breve, almeno quella materiale, non mi sembra che possa essere una delle motivazioni. Poi naturalmente c'è sempre la possibilità che qualcuno venga qui con questa idea sbagliandosi e diciamo, venga poi, oppure no, oppure può succedere che uno esce da qui e arriva la Unilever che pensa che siano i filosofi o i letterati i migliori top manager del futuro e lo prende, allora magari invece mi sto sbagliando io. Questo terzo motivo è molto importante perché mi piacerebbe anche avere da voi qualche opinione su quello che dirò, che dirò con una certa intenzione o motivazione, ma non per questo non ho dei dubbi su quello che vi dirò, anzi ne ho molti, e soprattutto mi piacerebbe rimetterli in questione insieme a voi. Ora, l'ultima volta che ho incontrato Greco era alla scuola di politica, eravamo tutti intorno a un tavolo. La disposizione fisica è molto importante per le discussioni. Questa disposizione fisica è una disposizione, diciamo, in cui non si organizza una discussione, si organizzano semmai tutt'al più delle domande, ma a me piacerebbe invece avere una interlocuzione con voi. Quindi vi proporrei, se mi va, senza alcun obbligo naturalmente, di in qualunque momento alzare la mano e dire ma non mi convince quello che ha detto, oppure io la penso diversamente, oppure mi chiarisca meglio questo aspetto. Fatta questa troppo lunga premessa, il titolo molto ambizioso che ho dato al vostro collega è La libertà come cultura. Io penso veramente che si è liberi se si è colti. Forse non si è felici. Ecco, sulla felicità come cultura avrei più dubbi. Si può essere naturalmente colti e felici. E invece che si possa essere liberi e ignoranti su questo ho più dubbi. O meglio, si può sentire liberi sicuramente in maniera inconsapevole e ignorante, ma esserlo nei fatti implica fare delle scelte. E allora, come dire, l'idea che ho è che non soltanto nel lavoro editoriale, ma in tutto il nostro modo di vivere facciamo continuamente delle scelte, esserne consapevoli, cioè essere consapevoli che si sta scegliendo è una cosa importante. Una delle cose che mi fanno più divertire dei nostri tempi è quando apro la televisione e vedo un signore, di solito un uomo che lo fa, che con aria assolutamente sicura di sé dice io sono un uomo pragmatico e fa così. Ecco, questa mi sembra una delle cose più divertenti che ci siano, perché mi sembra un atto di pura ideologia, perché essere pragmatico non so cosa voglia dire. Nella nostra vita facciamo delle scelte, tutte le nostre scelte sono condizionate alle nostre visioni del mondo e anche ai nostri pregiudizi, e tutti noi ne abbiamo. Ma partiamo da alcuni dati, perché se no, come dire, fare solo chiacchiere mi sembra che non si addica a un non professore universitario. Quel grafico, non lo so se lo vedete bene, comunque è un grafico tratto dalla ricerca dell'Eurobarometro. L'Eurobarometro è lo strumento della Commissione europea che misura tutta una serie di dati. In questo caso, una ricerca dell'Eurobarometro dedicata ai consumi culturali. Ora, non so se funziona il microfono, quello, questo. Allora, questi sono i paesi. Questa è la media europea, 27. Questo è un indice combinato di tutti i consumi culturali, almeno dei più importanti, che sono dichiarare di vedere programmi televisivi culturali. Questo è il primo consumo culturale in Europa, più diffuso. Secondo, leggere libri. Cioè, la domanda, hai letto almeno un libro? Questo è un secondo consumo culturale. Sei andato al cinema? Teatro? Sei andato almeno una volta in un luogo di interesse storico-artistico. Hai frequentato un museo o una galleria? Sei andato a un concerto? E sei andato a un opera o un balletto? Questo mi pare sia no. Questo qui, che vedete, è un indice composito, dove c'è very high, cioè sei andato più di cinque volte, high, credo che sia sei andato più di tre volte, medium, due volte, e very low, nessuna volta. E questa è l'indice combinato. Ora, vedete, questa è la media europea dei 27, dove very high è 5%, 13% high, 48% medium, e lì non riusciamo a vedere. E quei sono i paesi. Allora, vedete subito che questi paesi si spongono così. Svezia, Danimarca, Olanda, Gran Bretagna, Lussemburgo, Francia, Spagna, questo credo sia Estonia, Germania, Irlanda, la media, Finlandia, SI, che cos'è? Voi lo sapete cos'è, SI, no? Slovenia, bravissimo. Sì, Slovenia, MT, che cos'è MT? Malta, giusto, Belgio, LV, Lussemburgo, Italia. Quindi l'Italia arriva qui, questo corrisponde alla diciannovesima posizione. Quindi dice, nell'indice combinato dei consumi culturali, l'Italia è il numero 19. Dopo l'Italia vengono Ciecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, PT, che cos'è? Portogallo, Cipro, Grecia. Quindi, diciamo, c'è già un primo problema. Com'è possibile che il nostro Ministro dei beni culturali, ma tutti, diciamo, imprenditori, il sole 24 ore, ci dicono in continuazione, ma noi dobbiamo essere fieri di essere italiani, perché abbiamo la metà, poi c'è qualcuno la dice più grossa, il 60%, qualcuno dice ancora più grossa, il 70% del patrimonio artistico dell'umanità. E com'è possibile che poi ci abbiamo quei consumi culturali, numero 19? Questa è una prima domanda che vi consegno, su cui mi piacerebbe avere la nostra opinione. Cioè, allora che cos'è la cultura? È quella cosa lì o il patrimonio artistico? Cioè, esprime meglio lo stato, diciamo, della cultura quel grafico o le statistiche, prendiamole per buone, che dicono che il 50% del patrimonio storico artistico è in Italia. Silenzio, vedo che nessuno, nessuno vengono idee su questo, poi ci torniamo. Però questa è la prima questione. Se andiamo più specificamente nella lettura dei libri, la situazione non migliora, anzi peggiora decisamente, perché l'Italia è al numero 21, quindi cala di ben due posizioni. Gli italiani che dichiarano secondo questo indice, in realtà poi l'indice che fa la associazione di editori è più basso, ma diciamo in proporzione allo stesso, il 56% degli italiani dichiara di leggere un libro almeno all'anno, contro il 68% della media europea, il 90% della Svezia, l'82% della Danigarca, l'80% del Regno Unito, il 70% della Germania, il 79% della Germania, il 73% della Francia, eccetera, eccetera, 60% della Spagna, quindi anche la Spagna sta meglio messa di noi. Dunque, io qui sono perso. Come si fa a tornare al... ho chiuso qui. C'è chi è che di voi è un bravo per rimettere sulla chiavetta. Sì, era quello. Ok. Documenti. Ok. Benissimo. Vediamo se è questo. No. No. Sì, vabbè, vi faccio vedere questo, vediamo se ve lo dà. Ecco. Questo qui però mi dice un'altra cosa, cioè che questo dato molto basso dell'Italia, questo ci tira un po' su, lì è il 46% che è quello delle statistiche, però vedete che è il risultato di un gigantesco balzo, cioè nel 1965 in Italia leggeva almeno un libro il 16% degli italiani. Quindi siamo fermi, come vedete il grafico si ferma da una decina d'anni, non cresciamo, però questo corrisponde al fatto che, come sapete, ancora nel dopoguerra l'analfabetismo in Italia era molto alto, veniamo da un passato di grande arretratezza. Da cosa dipende questa arretratezza e quale conseguenza ha questa arretratezza sullo sviluppo italiano, cioè sulla sviluppo economico e sociale? Ora, credo che su questo tema voi ne sappiate molto, probabilmente anche più di me. Non so però se avete letto, se vi capita ve lo consiglio molto, questo libro di Ignazio Visco che si chiama Investire in conoscenza per la crescita economica. È un libro del mulino di qualche anno fa, però poi è stato rivisto, dove Visco porta quei dati che spesso si citano, ma che sono abbastanza impressionanti, su come si investa molto poco, per esempio in istruzione, la spesa pubblica e privata in Italia a scoppio di istruzione, che sono dati qualche anno fa ma non credo che si sono cambiati in proporzione, è meno del 5% del prodotto interno lordo, contro il 5,2% della Francia, il 6,1% della Germania, il 7,4% degli Stati Uniti. E questo solo per istruzione secondaria, se poi passiamo alle istruzioni superiori, il dato è ancora peggiore, la quota dei laureati sulla popolazione, in età compresa tra i 25 e i 64, in Italia è pari all'11%, contro il 25% della media Ocse e il 23% della media dell'Unione Europea. Visco da un giudizio molto molto duro sulla scuola italiana, forse anche troppo, dice che nel confronto con altri paesi dell'Ocse la scuola italiana non è in grado di coltivare le eccellenze, non è in grado di alleviare lo stato di povertà, di competenze dei ragazzi più svantaggiati e non è in grado di attenuare i divari territoriali. Quindi tre caratteristiche negative della scuola. E poi dice Ignazio Visco, dice il governatore della Banca d'Italia, che quello che risulta da questo scarso investimento in istruzione e formazione, scarso investimento in ricerca, è quello che lui chiama un circolo vizioso e cioè, cito, bassi rendimenti nell'istruzione scoraggiano investimenti in capitale umano, ciò che a sua volta non favorisce la capacità dell'economia di innovare e adottare quelle tecnologie che favoriscono la domanda. Non so se qualcuno di voi ha visto quel film molto divertente che si chiama Smetto quando voglio. L'avete visto? Qualcuno l'ha visto? Sì. Beh, vi ricordate il paradosso, no? Cioè questi sono cinque ragazzi strabravi in varie materie, uno in economia, un altro, non mi ricordo, in chimica, l'altro, eccetera, che non trovano lavoro perché sono troppo qualificati. Cioè la loro qualificazione universitaria è un serissimo deterrente, tant'è che ci sono alcune scenette abbastanza tragicomiche, uno che cerca di farsi prendere, non so, in una piccola fabbrichetta, dice ma tu cosa hai fatto all'università? Hai fatto all'università? Assolutamente no, io no, proprio a scuola non si sta bocciato. Poi al momento si tradisce perché dice, non so, la parola corrivo, non so, dice una parola che quello non capisce. Ah, no, allora tu sei laureato, dì la verità, allora lui dice no, io, così, e non gli danno il lavoro. E allora questi cinque capiscono che l'unico vero modo in Italia di mettere a frutto le proprie competenze e intelligenze è il crimine. E quindi si dedicano, elaborano attraverso le competenze del chimico una droga che si può fare per sintesi di vari farmaci che si compri in farmacia, l'economista mette su un business, diciamo, e cioè, insomma, riescono a fare un sacco di soldi e capiscono che è molto meglio utilizzare, cioè che in realtà in Italia se uno è molto bravo, è laureato, ha una specializzazione, il crimine è l'unico settore che veramente valorizza le competenze. Non è molto lontano dal quadro che disegna il governatore della Banca d'Italia, diciamo, nel suo libro. E allora, di nuovo, la domanda che vi pongo è ma se è vero questo, cioè se è vero che le classi dirigenti italiane hanno investito generalmente molto poco in ricerca e informazione. E quindi la conseguenza nel tempo è il tasso di disoccupazione giovanile che abbiamo, perché se noi abbiamo il 44% di disoccupazione giovanile è una diretta conseguenza di questo. Perché è evidente che noi ce la possiamo prendere quanto vogliamo dai lavoratori che arrivano da altre aree del mondo e sono disponibili a fare lavori con bassa retribuzione. È evidente che l'unica risposta possibile che noi possiamo dare è essere pronti a fare lavori ad alta qualificazione, ma se noi non investiamo nella formazione e nella ricerca, le persone che escono al nostro sistema formativo non hanno competenze competitive con quelle di altri paesi europei, ad esempio la Germania. Allora, questa scelta della classe dirigente italiana, e qui anche vi piacerebbe sapere il vostro parere, secondo voi da che cosa è determinata. Cioè, perché in Italia così sistematicamente da molti anni, forse decenni, il nostro establishment non investe in formazione, non investe in ricerca, diciamo, non investe in cultura? Perché, non so, potrebbe essere o un fatto di miopia, cioè a forza di essere, di essere, coltivare l'ignoranza, si sono diventati ignoranti anche loro e non si rendono conto di questo nesso che dicevisco tra l'ignoranza e lo sviluppo economico, e pensano che uno possa essere ignorante e ricco, e invece non è così. Dopo un po' la sconti. Oppure potrebbe essere un progetto consapevole di gestione del governo? Lei è più convinta di questo? Ecco, perché? Io sono d'accordo con lei. Penso, avete sentito cosa ha detto? Sì, anche se non aveva il microfono. Io sono d'accordo con lei, penso anch'io che sia così, però magari ci torniamo poi dopo. Cioè, penso anch'io che sia una scelta. Ora, il tema della classe dirigente, della formazione della classe dirigente, era, diciamo, lo scopo del sodalizio, diciamo, che si costituì all'inizio del secolo tra Giovanni la Terza, che era mio bis bis nonno, diciamo, io sono la quarta generazione, e Benedetto Croce, che un giorno nel 1901 riceve questo giovannissimo ragazzo che veniva da Bari, Bari all'inizio del secolo era pressoché un paesino, un paesotto, insomma, come oggi può essere bisceglie o putignano, non so, qui vicino a Pisa, che gli propone di collaborare con lui. E lui, a differenza di altri intellettuali prestigiosi napoletani, Napoli era all'epoca la capitale del sud, lo mette alla prova e gli dice di pubblicare questo libro che si chiama Italia d'oggi, che noi abbiamo ristampato qualche anno fa, in occasione del centenario della casa editrice, un libro scritto da due inglesi, Bolton King e Thomas Hockey, e che è una specie di rassegna dell'Italia dell'epoca. Sentite come inizia, è una rassegna sulla politica, l'economia, la politica estera, il sud e il nord, la questione cattolica, il primo capitolo si intitola La politica e gli uomini politici, comincia così, uno dei primi fatti che fermano l'osservatore della vita italiana, è la confusione e la decadenza dei vecchi partiti politici. Essi hanno perso la fede nei loro principi, nel loro Paese e in se stessi. L'azione loro sembra poco meglio di una interessata lotta per raggiungere cariche pubbliche e di una cieca resistenza a forze che non sanno comprendere a similare e pertanto temono. Una cosa che non c'entra niente con l'Italia di oggi. Giovanni pubblica questo libro e comincia una collaborazione con Croce in cui, come direbbero gli etologi, l'imprinting della casa editrice è di essere una casa editrice molto rigorosa. Croce usa questa espressione di dire che dovete essere editore di roba grave, molto rigorosa, approfondita, fuori dalla convenzioni e soprattutto destinata a durare nel tempo. Il nostro motto diventa Constanter et non trepide. Naturalmente, diciamo, come tutte le medaglie hanno risvolti, Croce era un personaggio anche molto idiosincratico. Cosa era cultura e cosa non era cultura per lui era molto chiaro. Vi cito questo episodio che è molto divertente. Nel 1935 Giovanni la Terza lo va a trovare e dice, ma c'è un giovane autore che va per la maggiore nei paesi di lingua tedesca, interessante, teorie nuove, si chiama Freud e ha fatto un libro che si chiama Totem e Tabù. Mi piacerebbe, forse potremmo provare a pubblicarlo. Croce dice, guardi, lo guarda, lo legge, dice, guardi, se lei pensa che si possa vendere pubblichiamolo, ma mettiamo nella collana studi religiosi iniziatici ed esoterici. Il libro riscuote un certo successo per cui, essendo un commerciante, un imprenditore, Giovanni la Terza, torna da Croce e dice, ma ce ne sono tutta una serie di opere di questo Freud che potremmo riprovare. Lui dice, per carità, di questo cialtrone una ne basta. E quindi noi ci siamo preclusi un filone d'oro, diciamo, per la pubblicazione. D'altra parte, una caratteristica interessante di questa casidice che nasce con Croce è che non è una casidice accademica, perché come sapete, la persona che ha più fortemente influenzato non solo la filosofia, ma il pensiero, diciamo, umanistico, almeno italiano, nella prima parte del Novecento, non era un universitario, non era un accademico, era un signore che aveva proprietà terriere, era benestante, non aveva bisogno di vivere con l'università e quindi governa, tra virgolette, o influenza fortemente la cultura italiana senza essere, senza avere cattedra universitaria. Questo condiziona abbastanza, diciamo, la casiditrice, che pur essendo una casiditrice i cui autori sono per il 90% professori universitari, non è mai stata una university press, come per esempio il Mulino. Il Mulino è una grande casiditrice fatta da professori universitari, la cui impianto riflette molto fortemente questa caratteristica. Poi anche il Mulino cerca di fare una saggistica più di intervento, eccetera, ma in qualche modo è condizionata da questa sua caratteristica che noi non abbiamo. L'altra caratteristica importante della casiditrice è di avere, diciamo, di avere fin dall'inizio un orientamento liberale. E cosa si intende per orientamento liberale? Beh, per esempio il fatto di fare delle scelte che non risentano troppo degli equilibri di potere di quel momento. E l'esempio più clamoroso è che a un certo punto la casiditrice nel 1919-20-21, grazie a Croce, diventa una casiditrice importante, piccola, non pubblichiamo mai bestselle, però insomma con una buona parte dell'establishment culturale che pubblica con la terza. Tra questi Giovanni Gentile. Giovanni Gentile è un filosofo molto legato a Croce per tutta una parte della sua vita, ma anche a un certo punto la cui strada si divarica, teoreticamente, ma anche politicamente, che Giovanni Gentile diventa nel 1924-25, non mi ricordo, ministro dell'educazione. Fa una scelta molto forte a favore del fascismo. Croce era stato in realtà abbastanza, come dire, propenso al fascismo, comunque l'aveva ritenuto un movimento di rinnovamento fino all'assassinio Matteotti. Quando viene ucciso Matteotti, Croce capisce con ritardo, ovviamente, che questo movimento è un movimento autoritario che sta costruendo un regime e se ne dissocia. In quel periodo Gentile scrive un libro, o meglio Croce, scrive un libro, la storia d'Europa, in cui c'è un passaggio molto critico verso Gentile. Gentile scrive a Giovanni La Terza dicendo che non posso sopportare che un editore, che il mio editore pubblichi un libro così critico nei miei confronti. Vi prego di scrivere a Croce che deve eliminare questo passaggio dalla prossima edizione. Giovanni La Terza che, diciamo, è da buon pugliese, come diceva quello prima, sono un uomo pragmatico e vorrebbe tenere tutti e due, insomma, perché capisce che sono tutti e due autori importanti, scrive effettivamente a Croce e dice a Croce ma non è che potrebbe attenuare un po' quel giudizio sul Gentile che effettivamente era molto, molto duro. E Croce risponde non ci penso proprio. A quel punto si pone una scelta, Giovanni capisce che o sta con uno o sta con l'altro. E sta con Croce. Sta con Croce probabilmente molto anche per un sentimento di gratitudine della persona che gli ha consentito di fare un balzo da piccolo editore locale a editore nazionale. Ma forse anche, o almeno così ci illudiamo, forse anche perché appunto sceglie qualcuno che è molto influente culturalmente ma non necessariamente il più forte politicamente. Questa è una caratteristica che la Casitice mantiene fino a oggi. Cioè noi abbiamo pubblicato spesso libri opposti uno all'altro. Mi viene in mente recentemente Ugo Mattei, che è uno dei grandi teorici del bene comune, è uno che l'ha criticato molto fortemente. Mattei non è stato contento di vedere un libro nella sua stessa Casitice che diceva che tutto quello che scriveva era sbagliato. Però in quel caso l'ha capito. Cioè ha capito che fa parte della produzione dell'editore liberale ospitare opinioni diverse. L'abbiamo fatto negli anni Sessanta con storici come Rosario Romeo, liberale conservatore, e Rosario Villari, che invece è un liberale progressista se non socialisteggiante. L'abbiamo fatto con un architetto modernista come Leonardo Benevolo e un postmodernista come Portoghesi e così via. Cioè abbiamo sempre pubblicato libri di persone che erano anche direttamente in polemica l'uno con l'altro. Non avevano solo idee diverse, ma che si criticavano. Questo vuol dire essere neutrali? Vuol dire che l'editore è una sorta di passivo arbitro che sta in margine del campo, che non parteggia per nessuna squadra e che dice giocate perché l'importante è che abbiate buone idee? Non esattamente. Anche questo nel corso del mio lavoro mi è venuto sempre più chiaro. Il pluralismo non ha a che fare con l'indifferenza o con la neutralità. Uno può immaginare o può pensare o può praticare una certa linea editoriale e al tempo stesso aprirsi ad altre posizioni. Cioè uno può immaginare che in casa editrice ci sia una linea che parte da croce, continua nel dopoguerra con mio padre, con gli iscritti degli azionisti, diciamo, cioè Caetano Salvemini, Ernesto Rossi, e arriva fino all'oggi con gli iscritti dei grandi teorici del pensiero liberale, Darendorf, Amartya Sen, Tony Judd. Questo è un filone che la casa editrice ha sempre coltivato, diciamo, un filone liberale progressista, liberale più aperto alle istanze sociali, mettetela come volete, che può convivere nello stesso catalogo con altre impostazioni di pensiero. E il catalogo si può caratterizzare in un certo senso senza per questo che diventi univoco, che coltivi solo quella posizione. Quindi il liberalismo può voler dire pluralismo, ma non necessariamente neutralità. Può voler dire anche scelte molto radicali e dolorose. Mio padre negli anni Sessanta rompe i rapporti, o meglio sono loro che rompono i rapporti con le figlie di croce, perché come spesso succede, quando muore un grande personaggio della cultura, i suoi eredi si ergono a vestali del suo pensiero e vogliono che sia in qualche modo imbalsamato. Quindi la loro idea era che la casa editrice doveva continuare a ristampare croce e gli allievi di croce. Qualunque opinione difforme da quella del padre era considerato un tradimento. E questo ha pesato molto su mio padre, ma la scelta l'ha fatta. E l'ha fatta confortata da un grandissimo storico della filosofia e filosofo che ha insegnato qui per molti anni, che si chiamava Eugenio Garen, che lo ha aiutato. Mio padre si era laureato a Firenze con lui in filosofia nel 50 e lo ha aiutato a gestire una situazione molto difficile, anche perché che era successo nel frattempo che croce, invecchiando, si era chiuso sempre di più. Da una parte si era estraniato dal fascismo e questo è un fatto molto positivo, aveva costituito un polo non antifascista ma non fascista. Dall'altra però si era sempre più andato chiudendo, negli ultimi anni della sua vita, ad altre influenze ed erano nate nuove case editrici. La più forte tra tutte è Inaudi, che era nata negli anni 30 e che nel dopoguerra si era aperta non solo alla letteratura che la terza non pubblicava, perché Croce non voleva neanche pubblicarsi alla letteratura perché considerava già una cosa troppo leggera per la case editrice, ma anche per esempio all'esistenzialismo, allo strutturalismo, nuove correnti di pensiero, alla filosofia della scienza. Ci sono tutta una serie di filoni che la terza non prende, non vede, perché Croce non voleva e Croce muore nel 52 e fino ad allora la case editrice deve essere fedela al maestro, perché è il maestro che garantisce. Quando mio padre entra nei primi anni 50, questa è la situazione, un grande blasone, ma una case editrice che è in grandissima difficoltà rispetto ad altre. Ed è in grande difficoltà rispetto ad altre per una cosa che mio padre mi ha sempre detto da quando ho cominciato a interessarmi a case editrice, guarda che il marchio conta, ma se non c'è un'attività tutti i giorni, se non pubblichi delle novità, se non pubblichi dei libri importanti nuovi, il catalogo muore nel giro di pochi giorni. E questo in parte dice perché io considero che la cultura è molto più nel grafico che abbiamo visto che nel patrimonio. Io considero che la cultura è molto più una relazione, un'attività che uno stock, direbbe un economista. Cioè sì, è bellissimo che in questa sala ci siano questi meravigliosi stucchi, questi affreschi, questi stemmi, ma se non ci fossimo noi in questa sala che cultura sarebbe? Cioè questa sala è cultura perché ci siamo noi. Se non ci fossimo noi, se fosse vuota, se non c'entrasse mai nessuno come in certe meravigliose biblioteche in cui il bibliotecario è preoccupato solo di preservare il libro e non fa entrare nessuno perché mai sia, quella è cultura? Se è una relazione, questa relazione della casa editrice è stata una relazione coltivata sempre in maniera molto polemica e molto critica per il fatto che gli autori la pensavano diversamente, come vi ho detto, e per il fatto che l'idea di mio padre in particolare, ma non solo, ma anche prima, ma di mio padre è che i libri devono discutere. Se io faccio un libro che dice delle cose che tutti condividono, non serve, non è utile. Servono dei libri che facciano discutere. Allora, per esempio, arriva al 68-69, mio padre pubblica una collana, fa 30 libri nel giro di due anni, che si chiama Tempi nuovi. Io ho portato qui le ristampe anastatiche che abbiamo fatto, dove pubblica per esempio i documenti della rivolta studentesca francese, i documenti della rivolta universitaria italiana, le voci degli hippies, cioè l'austera istituzionale, seriosa, casilistica e benetto croce, pubblica nel giro di tre anni, voci del potere nero di Karl Stockton e Karl Michael, le voci dell'isolotto alle comunità cattoliche di Basel. Cioè nel giro di due anni mio padre pubblica dei libri che sono esattamente i libri a caldo, gli instant book, si sarebbe detto, di quello che sta succedendo. Nel mondo sta cambiando, ci sono movimenti di protesta, in America, in Italia, eccetera, in Europa bisogna dar voce. Poi passano qualche anno e io ero andato una volta alla London School of Economics, anche lì, come si dice, adesso vedete c'è un'espressione inglese meravigliosa che non è veramente traducibile in italiano, che è wishful thinking. In italiano la lettera sarebbe pensiero desiderante, ma non si dice. C'è un'espressione italiana che si chiama pio desiderio. Ecco, così come entrare normale era un pio desiderio, a un certo punto ho avuto il pio desiderio, dopo l'università, di andare alla London School of Economics. Vado a Londra, anche lì mi informa e dietro al building della London School of Economics c'è una liberia. E in questa liberia vedo che c'è una rivista che si chiama London Book Review. No, scusate, è la rivista della London School of Economics. O no? No. Si chiamava un altro modo. Comunque era una rivista politica, politica economica, e prendo alcuni numeri che mi sembrano interessanti. Tornando vedo che in uno di questi numeri c'è un'intervista a un filosofo, che era anche autore della casitrice consulente, che si chiama Lucio Colletti. Un filosofo che in un'intervista con un intervistatore inglese cambia radicalmente la sua posizione. Era stato un marxista negli anni Sessanta, aveva scritto libri importanti e anche tradotti, abbiura il marxismo, spiega perché il marxismo è una materia totalmente sbagliata e perché ha fatto danni incalcolabili al pensiero. Torno, ne parlo con mio padre e dico, va, è interessante questa intervista di Colletti, e mio padre diceva, va, facciamone un libro. Ora, all'epoca non si erano mai fatti libri intervista. Si pubblica questo libro e nel 1975 ha un grandissimo successo. Perché? Perché è un'idea radicale ed è detta in maniera molto semplice, accessibile, in un libro breve, quindi che si può leggere in treno tra Roma e Milano. Comincia un filone di libri intervista che continua con altri grandi successi. Un altro libro che fa scandalo è un libro di uno storico che si chiama Renzo De Felice, che aveva pubblicato dei volumoni con i naudi importanti su Mussolini, ma che per la prima volta in maniera divulgativa dice una cosa che in Italia di quegli anni farà brividire, cioè non è vero che il fascismo si è retto per vent'anni solo sulla violenza. Fino almeno al 1936, alla guerra di Spagna, 35-36, e poi la guerra, in realtà il fascismo ha avuto un largo consenso. Questa cosa nell'Italia del 75, mi sembrerà strano, ma fa scandalo. Il libro viene stroncato, sui giornali ci sono recensioni molto negative che dicono che questo è un atteggiamento in confronto al fascismo assolutamente intollerabile, compiacente, il fascismo è il regime dei picchiatori, del manganello, del confino, della galera, è una dittatura feroce. Oggi la storiografia, ma anche l'opinione pubblica, ammettono correntemente che il fascismo è stato un regime che ha avuto un larghissimo consenso, o quantomeno un'acquiescenza, diciamo, da parte di molti italiani. Ma all'epoca faceva scandalo. Ecco, questo scandalo, questa discussione, a mio padre non dispiacevano affatto, anzi, pensavano che fosse, pensava che fosse una parte fondamentale del suo lavoro. E devo dire che un anno io incontrai un editore inglese, a Francoforte, anzi americano, un grande editore radicale, intellettuale radicale di destra, non sono tantissimi, i soliti sono editori radicali intellettuali di sinistra e poi sono i commerciali di destra. Questo era radicale, intellettuale di destra. La casitrice si chiamava Free Press e lui si chiamava Erwin Glickes, era un mito dell'editoria americana. E mi disse, sai, caro collega, caro Giuseppe, per metà della mia vita ho pensato che fare l'editore, un buon editore, insomma, forse consistesse in pubblicare buoni libri. Poi a un certo punto ho capito che essere un buon editore non vuol dire pubblicare buoni libri, vuol dire pubblicare buoni libri e farli discutere, farli entrare nell'opinione pubblica. Non so quanti di voi hanno letto Leopardi, qualcuno ha letto qualcosa di Leopardi? No. Vi suggerirei, io non ho letto Leopardi, quindi non sono... però vi suggerirei di leggere il discorso sui costumi degli italiani. C'è un passo di quel discorso, 1800, 34, adesso ve lo dico, che è straordinario, a proposito delle opinioni. Allora non può essere, se è morto non può essere. Però è strano perché qui mi dà 1842. Vabbè, qualcuno di voi c'è un computer, c'è una data di nascita e di morte di Leopardi. Comunque, nel frattempo vi leggo la frase. Che cos'è? 30? 37. Allora, evidentemente è sbagliato, sarà... digitate il discorso sul... vediamo se vi dà anche la... Allora, dice Leopardi in questo libro, il vincolo delle leggi e della forza pubblica, che sembra ora essere l'unico che rimanga alla società, è cosa da gran tempo riconosciuta per insufficientissima a ritenere dal male e molto più a stimolare dal bene. Tutti sanno, con Orazio, che le leggi senza i costumi non bastano e, d'altra parte, che i costumi dipendono e sono determinati e fondati principalmente e garantiti dalle opinioni. E questo è molto interessante per un editore, perché l'editore pubblica dei libri e superficialmente potrebbe ritenere che i libri facciano opinioni. Evidentemente no. I libri contengono delle idee, dopodiché queste idee diventino opinioni e tutt'altra cosa. La discussione pubblica serve a questo. La discussione pubblica serve a far sì che una certa idea, che altrimenti rischierebbe di rimanere confinato in un piccolissimo circuito, diventi opinione. C'è chi pensa, l'ho scritto un grande economista e filosofo, Amartya Sen, che addirittura la qualità della discussione pubblica sia la cifra essenziale di una democrazia, molto più delle elezioni. Sen ha scritto che se ci basiamo sulle elezioni per definire cosa è una democrazia, abbiamo un concetto molto occidentale della democrazia. Ma in realtà c'è stata democrazia anche in altre aree del mondo e quello che la caratterizza soprattutto è la qualità. Da questo punto di vista il nostro Paese, a me sembra, non ha una buona qualità della discussione pubblica. La discussione pubblica è una discussione molto spesso fatta tra persone che già sanno e che parlano in codice, che fanno poco per uscire da questo codice, da questo gergo. Non ne parliamo nei convegni, voi ne siete andati un sacco ai convegni, nessuno ascolta nei convegni. L'altro giorno c'è stato un episodio molto divertente, sono andato a un seminario in cui si parlava dei giornali e c'era il direttore di un grande giornale, anzi l'ex direttore di un grande giornale che ha detto, in sostanza, una persona molto garbata, con un tono molto, come dire, un eloquio aristocratico, ha detto che i giornali oggi sono conformisti, appiattiti sul potere, i giornalisti sono fungibili, perché gli editori li vogliono così, cioè devono poter scrivere di sport, di cuscina, di politica, di politica estera, indifferentemente, quindi non hanno più nessuna competenza. Dopo di lui è intervenuto l'anchorman di una televisione privata, molto nota, conduttore di telegiornale, che ha detto, ma la vera questione è, che vorrei porvi, perché i giovani non leggono i giornali? Allora, diciamo, è evidente che non aveva ascoltato il signore che parlava prima di lui, perché non si è posto minimamente il problema di dire, forse, motivi per cui il mio interlocutore criticava i giornali, forse sono gli stessi per cui i giovani non leggono. La sua tesi, che è una delle tesi più correnti, è che i giovani non leggono i giornali perché i giovani vanno su internet, che è bellissimo, io lo trovo meraviglioso, come se uno dicesse, io nella mia vita non metto, non so, il cotto per terra perché io preferisco il legno, no? Cioè, più o meno la stessa cosa, cioè, internet, che vuol dire internet? Internet può voler dire un meraviglioso filmato su YouTube piuttosto che il porno, cioè, è tutto internet, no? Però c'è questa idea che i giovani vanno su internet, è una specie di scelta ideologica, cioè i giovani vogliono internet perché gli piace internet, non capiscono, non vogliono nient'altro. Quindi non si ascolta negli incontri, si parla a ciascuno per conto suo e molto raramente si esercita la vera critica, che è una cosa che invece nell'università anglosassoni, nelle scuole anglosassoni si fa. E io penso che molto di questo sia proprio che nel sistema informativo non ti insegna, non so qui alla normale, ma nel mio curriculum, nel mio corso universitario non mi hanno mai insegnato a scrivere, ma neanche a scuola. Io ero un logorroico, come sono, come vedete, a parlare, dovevo anche scrivere, scrivevo pagina su pagina e nessuno mi ha mai detto, guarda che si scrive bene, se si scrive in maniera sintetica. Mia figlia Antonia, che ha fatto un'università a Londra, ha fatto una cosa che si chiama SOA, School of Orient and African Studies, gli hanno cominciato a far scrivere subito, dopo un mese, doveva scrivere 3.000 parole. L'accordo era che se ne scrivi di più, va benissimo, ti scala il voto. Quindi è importante come scrivi, è importante che sostieni l'argomento dall'inizio, dici qual è il tuo argomento e lo motivi, ma poi è importante quanto scrivi. Se tu questo lo scrivi in più di 3.000 parole, lo puoi fare, ma il tuo voto si abbassa. Da noi non c'è alcun allenamento alla scrittura, come non c'è allenamento alla retorica dell'argomentazione. Nelle scuole inglesi c'è ogni settimana due ore dedicata a un argomento. Le persone famose hanno meno diritto alla privacy, si chiama uno che dice sì, uno che dice no e poi si discute, si impara a discutere e questo a noi non c'è. Quindi nel difetto della classe dirigente, secondo me c'è un grave difetto anche dell'establishment della cultura, dei colti, che hanno sempre, credo, mi sembra, utilizzato la cultura più come barriera difensiva ed esclusiva che per includere. E qui torniamo alla domanda perché appunto l'establishment punta poco sulla cultura. Questo è un difetto anche della nostra cultura. Sì, è vero che certe volte argomentazioni complesse richiedono, la complessità del pensiero richiede una scrittura complessa, ma non è sempre vero. Molto spesso si possono dire cose molto profonde, anche con parole semplici, io credo. E questo è il tema del lavoro editoriale. Il lavoro editoriale è questo. Il lavoro editoriale è pensare a un libro in maniera semplice, in maniera chiara, a partire dal titolo. Per un editore il titolo è fondamentale. Primo perché il titolo fa il successo a un libro. Se voi guardate i libri in classifica, quasi sempre hanno dei titoli molto suggestivi. E poi perché il titolo orienta la persona che scrive. Da me arrivano molto spesso professori universitari, ricercatori che mi dicono, dottor La Terza, ho pensato di fare un lavoro su un tema su cui lavoro da anni, insomma un tema difficile, complicato, però secondo me bisogna farlo, questo lavoro. E dico, ma guardi, io le posso dire un titolo così su cui sta lavorando, alcune preliminari riflessioni sulla possibilità di esercitare una definizione critica in merito alla storia che ha portato ad alcune limitate trasformazioni nell'ambito scientifico, limitatamente, naturalmente a Londra, ad alcuni gruppi all'inizio del Settecento. Allora io dico, professore, e se lo chiamassimo Londra rivoluzionaria? Allora lui sviene come prima possibilità, stramazza. Lui ha due possibilità. Dire no, in quel caso dico, scusi, professore, ma la nostra non è una casa, dice, universitaria. E quindi le monografie le pubblica con. Oppure dire sì. Se dice sì comincia una battaglia, perché la questione di solito è che lui dice, io voglio fare un libro divulgativo. Quindi lui mi dice, io sono venuto alla Terza, sapendo benissimo che voi siete un editore. E poi però in realtà quando scrive lui sta pensando a tre colleghi, tre. Cioè gli si può dire nome cognome. E quindi tutto il suo problema è come faccio ad arrivare a parlare a quei tre colleghi con quel rompiscatole della Terza che mi dice che devo scrivere. E questo è molto faticoso. In Inghilterra, per esempio, questo vincolo c'è meno, sono più allenati. L'editor fa questo lavoro, in una casa editrice. Cioè fa un lavoro di costruzione del progetto con l'autore e anche di revisione continua del testo. Perché la scrittura è un momento fondamentale. E noi cerchiamo di persuadere un ricercatore che, se tu hai trovato un archivio, prendo il caso della storia, in cui sono documenti fondamentali, il libro non è il faldone di quei documenti buttato su carta. Perché se tu prendi il faldone di documenti e lo butti su carta, stai parlando con i dieci signori interessati a quei documenti. Va benissimo. L'operazione è del tutto legittima, la puoi fare su una rivista, la puoi fare su una monografia della Cambridge University Press e ti va bene, se non di Franco Angeli. Ma non è quella cosa lì che chiami divulgazione. La divulgazione implica un altro lavoro. Cioè prendi quei faldoni, cerchi di tirar fuori da quei faldoni quali sono le cose che ti interessa dire e poi lavori sul modo di dirle. Perché la cosa fondamentale, anche nella scrittura saggistica, non solo in quella narrativa. È il modo in cui dico le cose. Cosa metto nell'introduzione? Cosa metto nel primo capitolo? Come aggancio l'attenzione del lettore? Parto dall'antichità arriva all'oggi o per esempio faccio un primo capitolo sull'oggi? Perché ti devo far capire perché vado indietro. Ti devo far capire perché sto utilizzando la storia. Perché la storia mi serve per capire una cosa di oggi e te lo dico subito. Non è solo un piacevole racconto, una bella storia, una bella favola. Ma mi serve per capire che il problema della corruzione di oggi è il problema che si poneva Cicerone quando fa il processo a Verre. E cosa ci insegna quel processo? E allora il lavoro maieutico, diciamo, per usare un parolone dell'editore, è quello che questo signore che è venuto con una prospettiva che per me è strabica. Cioè lui fa il libro perché c'è l'archivio. Dico ma non gli frega niente a nessuno che c'è l'archivio, solo a te. Cioè solo a un universitario può pensare che la cosa fondamentale è aver trovato l'archivio. Cioè no ma scusi, mi fa l'autore, no ma è molto artissimo quell'archivio perché quell'archivio invera la teoria di Hamsungen del 65. Dico sì, ho capito. Cioè no perché fino a oggi la teoria di Hamsungen si poggiava su basi fragili. Con il mio archivio dico guardi il mio pubblico al 90% neanche sa chi è Hamsungen. Va benissimo di nuovo, lo faccia, lo faccia. E anzi io trovo che non c'è cosa più bella di vedere l'eroico furore di persone come voi probabilmente che passano tutta la loro vita a studiare Hamsungen. Sapendo che ci sono dieci persone nel mondo, no? E questa è la cosa più bella che ci sia perché poi siamo tutti pazzi. Cioè diciamo mio padre diceva che appunto siamo una casetrice che lavorava per pazzi erasmiani. Alla fine diventiamo pazzi anche noi perché uno come si dice volgarmente quando vai col gobbo, no? Impari a... Dico anche noi abbiamo un grano di follia e questo grano di follia è ciò che fa fantastico il mio lavoro che io lavoro generalmente con dei pazzi. Io mi ricordo Paolo Silo Slabini, uno dei più grandi economisti del Novecento, un uomo straordinario che ha inventato teorie nuove, che ha studiato il sottosviluppo, uno dei pochi economisti che capiva il rapporto appunto tra l'educazione e il sviluppo. Mio padre rimandava i contratti, i suoi libri erano grande successo, vendevano. Sistematicamente rimandava il contratto a mio padre dicendo Vito ma sei convinto, ma sei sicuro di volermi dare quell'anticipo? Forse è troppo. Cioè un pazzo scatenato, no? Altri che ci ringraziano, molto spesso succede ancora, per aver pubblicato il libro, come se pubblicare il libro, cioè uscire col libro concluda il nostro rapporto. Cioè la vendita è totalmente... Cioè il momento in cui la terza mette il libro nelle biblioteche italiane è finita, cioè per l'ora è chiuso, no? C'è l'idea che ci sia una vendita. Vi cito un altro caso di follia. Domenico Musti, un grandissimo storico greco, fa una storia della Grecia che noi pubblichiamo e che vende ogni anno 100 copie, 150, 200, per cui è un long seller, come si dice. Un giorno il Corriere della Sera decide di fare una storia universale e ci dice vorremmo utilizzare molti dei vostri libri, partendo dall'antichità fino ad oggi. Bene, una di queste è la storia greca di Musti. La storia, questa storia in edicola, sapete che c'è stato un periodo in cui andavano molti libri, ha un enorme successo, ci arrivano le vendite della storia di Musti. Ora, Musti aveva fatto all'inizio 3.000 copie, poi ogni anno vendeva 200. Ci dicono la storia di Musti, ha venduto 232.000 copie. Io chiamo Musti e dico, senti Domenico, ti volevo dare una buona notizia. Il libro, poi esito un po' perché adesso gli prende una botte, ha venduto 232.000 copie. Silenzio. Dall'altra parte sento la voce. Senti, ma l'hanno rivista la nota a pagina 302? Capite che è una cosa sublime, cioè di questi tempi, no? Cioè lavorare con persone così è la cosa più bella che ti possa capitare. Vabbè, praticamente ho quasi finito. Io mi fermerei qua. Tornando alla domanda iniziale che volevo farvi, appunto, che è quella sul tema della classe dirigente, perché lei come si chiama? Esther. Esther ha dato un suo parere. Cioè il parere di Esther, se ho capito bene, è che la scelta dell'Italia, delle classi dirigenti italiane di investire poco in ricerca e informazione non sia solo una scelta, diciamo, soggettiva per ignoranza. Non lo sanno, ma sia una scelta, come dire, sia un calcolo, sia una strategia. E io sono abbastanza d'accordo con Esther e per usare una metafora, diciamo, che vi sarà abbastanza familiare, perché siete tutti abbastanza giovani e credo di avere un ricordo dei vostri rapporti con i genitori o di quando vivevate in casa con i genitori, ci sono molti modi diversi di fare i genitori. Uno di questi, molto italiano, è iperproteggere, no? Meglio non faccia questa cosa, questa cosa è rischiosa. Ecco, io sono abbastanza convinto che questo è il rapporto che ha la classe dirigente italiana col paese. Lo considero un paese fragile, il che in parte è vero naturalmente, cioè è vero che la storia italiana è la storia di un paese che si unifica molto tardi, di un paese appunto con alti tassi di analfabetismo, sapete che all'altro l'unificazione solo il 2% parlava italiano nel 1861. Un paese percorso da tensioni territoriali, ancora oggi, tra nord e sud e non solo. Un paese percorso da divisioni ideologiche. Quindi che sia un paese fragile non c'è dubbio. Però che questo paese fragile si possa mantenere o far crescere iperproteggendolo e magari facendo anche, come dire, operazioni coperte, no? Perché come i genitori nei confronti dei figli non diciamogli troppo, perché quello tanto non capisce, utilizza male l'informazione, poi rompe le scatole, no? Devo stare a parlare con lui per ore. Non glielo diciamo, diciamo si fa così, punto. Ecco, io credo che questa sia una parte, non dico tutta, ma una parte, una componente, diciamo, della mentalità con cui è stato governato questo paese. La paura sempre che si arrivasse a moti di piazza, a disordini, allo sfasciamento. Pensate alla mafia. Quanto ha contato l'idea che la Sicilia potesse in qualunque momento staccarsi dall'Italia per i tanti rapporti che lo Stato italiano ha avuto con la mafia, no? Politici come Andreotti, uno dei più importanti politici italiani, hanno avuto rapporti consegnati a sentenze in Cassazione. Fino a 1980, quando è scattata la prescrizione, sapete, l'istituto che ha consentito ad Andreotti di non andare in carcere, la sentenza del Tribunale di Palermo, verificata in appello in Cassazione, dice che fino a 1980 Giulio Andreotti ha avuto stabili continuativi e stretti rapporti con la mafia, tramite l'IMA, ma direttamente. Beh, questo, che cos'è? È una cattiveria di Andreotti? Sì, uno può anche dire che Andreotti era cattivo. È un modo giusto anche di vedere le responsabilità, sono personali. Però io credo c'è qualcosa di più. C'è questa idea, appunto, dell'establishment italiano che con gli italiani meglio non prendersi troppi rischi, perché questo paese è un paese che può cadere in pezzi da un minuto all'altro. Ah, mi dimenticavo, un'altra frattura, quella tra laici e cattolici, no? La presenza della Chiesa ha sempre pesato molto. La diffidenza reciproca tra il mondo cattolico e il mondo laico, che è sempre stato considerato, come si dice, spregiativamente laicista o se non addirittura anticlericale. Ecco, oggi sembra che siamo veramente in una posizione nuova col Papa, anche se, questo vi chiudo, anche su questo volevo sapere il vostro parere. Il Papa pone un paradosso fantastico, secondo me, della discussione pubblica. Cioè, forse per la prima volta c'è un signore che dice delle cose dirompenti, tutti lo applaudono, ma nessuno adegua i propri compri. Tutti continuano come prima, no? Beh, dice tutt'altro, però non ho mai visto una dichiarazione pubblica di uno della Chiesa che dice che il Papa ha sbagliato. Cosa? È infallibile. È infallibile. No, ma voglio dire, qualche tempo fa ho letto una dichiarazione del Papa che ha detto che nessun aumento dell'utile aziendale, nessun profitto aziendale giustifica il licenziamento di una persona, no? Poi adesso non so se notate questi slittamenti al linguaggio, il licenziamento non si dice più, si dice esodo, cioè si recupera la Bibbia. Ora, il Papa dice questo, dice una cosa che sovverte il senso comune, no? Cioè, il senso comune oggi è che se un'azienda ha un ROI o ROE o, chiamatelo come gli pare, un indice di profitto più basso, il fondo di investimento che è investito in quell'azienda, che non è un signore, ma sono pensionati, gente che magari sta in Milwaukee, che hanno investito in fondo di investimento e vogliono un certo ritorno, quindi non te la puoi neanche prendere con il signor Agnelli, con chi te la prende? C'è un indice e dice è caduto più basso, no? E bisogna licenziare, bisogna adeguare i costi al mercato. Il Papa dice questo non è ammissibile, questo è profondamente ingiusto, io non posso per avere un po' più di guadagno aziendale sacrificare vite di persone. Nessuno commenta. Non si vede l'articolo in prima pagina del Corriere della Sera dove Giavazzi, Alesina, campione del liberismo. Ma Scalfari parla benissimo, tutti dicono bravo e tutti continuano come prima. Allora io mi chiedo ma che cos'è questa ipocrisia italiana? Dal punto di vista di chi si occupa della discussione pubblica è veramente inquietante, perché o vuol dire che dice cose del tutto irrelevanti e banali e non mi sembra, oppure dice delle cose a cui sembra che tutti aderiscono, non si crea discussione. E allora mi chiedo ma quelle cose cambiano cambiano, cioè incidono veramente o no? È possibile? Scusate, dimostra, 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 dimostra quanto poco negativo. Però un punto di vista. Cioè secondo lei conta, ma conta per alcuni, non per alcuni. Conta per quelli che vengono a nome delle immagini, conta per gli italiani che ci credono. Sì, sì, ma non volevo dire. Conta per i fedeli, però questo sempre è il contrario, perché ci viene detto che questo è il primo Papa che parla a tutti, è tutto Scalfari, c'è un grande laico, su Repubblica. E allora è strano perché c'è uno scatto troppo forte tra quello che ci sembra e quello che è. E questo è un grande problema. Io non voglio fare l'illuminista, come dire, però se c'è uno scatto così forte tra una realtà apparente, è una realtà che si manifesta, questo è abbastanza grave. No, scusate, non volevo chiedere nessuno. Il senso del mio dire era... No, non ho parlato. Sì, no, voglio dire. Il senso del mio dire era, da un punto di vista politico, cioè il peso delle parole che le parole che si traducono in azione che può essere, non so, un decreto, una discussione di parlamento, da questo punto di vista, ecco, in questo senso non importa, sì, vabbè, bravo, sono d'accordo con te, però, come diceva lei, nel tutto, nella realtà non si toccano delle... non siamo delle... sì, delle influenze, delle... Però questo riguarda il lavoro che voi fate, che noi facciamo, perché se le parole e le idee non contano... Poi non è detto quanto... cioè, nei grandi, proprio nella nostra difficoltà nell'attivarci, cioè, ok, il Papa dice questo, è una cosa rivoluzionaria, ma noi non siamo disposti a essere rivoluzionari quanto il Papa, cioè, noi siamo... quindi non agiamo in questo senso come magari lui ci dice, tra virgolette, è molto più forte, cioè, è molto più semplice per noi accettare per osmosi quello che ci dice il potente ritorno e questo credo anche sia... perché, secondo me, è anche una questione storica, no? Abbiamo avuto sempre questo controllo e anche cattolica, perché, per esempio, la Bibbia nel cattolicesimo ce la devono insegnare, Lutero nel protestantesimo la doveva interpretare, quindi i paesi anglosassoni, per esempio, hanno un maggiore senso critico anche nell'università, noi invece abbiamo sempre le lezioni frontali, non diciamo nulla, ci viene inculcato tutto. Secondo me è proprio una questione... no, qui no, io non sono della normale, però... ecco, però nell'università pubblica il professore vuole i suoi libri, cioè, l'esame è con i libri del professore, non ci devono essere altri libri, non ci deve essere un altro punto di vista, quindi è un retaggio culturale che ci portiamo. Io vi consiglierei veramente di leggere Michael Sandel. Michael Sandel è pubblicato a Feltrinelli, purtroppo, quindi diciamo, lo dico con grande dolore. Però Michael Sandel è un professore di filosofia politica che insegna a Harvard. Se andate su YouTube e digitate Michael Sandel, trovate tutti i suoi corsi. In particolare vi consiglio una strepitosa lezione, quella d'inizio, che si chiama The Moral Justification of Murder, giustificazione morale dell'assassinio. Se voi prendete il suo corso di filosofia politica, che ha pubblicato Feltrinelli, che si chiama, credo, La Giustizia o qualcosa del genere, è un libro straordinario, perché lui, che è un comunitarista e che ha un punto di vista fortissimo sulle cose, dà sempre, per qualunque argomento, e procede per temi, per argomenti, il punto di vista opposto. E si fa scrupolo, si ingegna, chiaramente si sforza di dare l'argomento opposto al meglio delle sue possibilità. Cioè, il suo punto è, io prendo la visione del mio avversario, di quello che proprio non condivido nulla e cerco in tutti i modi di dare la forza di quell'argomento, di restituire al lettore, no? Ed è strepitoso, ed è secondo me uno dei più belli esercizi della mente che uno possa fare, no? Cioè, prendere l'avversario e fare come si fa in Italia, si fa all'università come in politica, e ridicolizzarlo, è facile, è troppo facile, non è divertente, non ci vuole niente. Fare l'alzata di spalle, magari appunto se sei il potente di turno che lo può fare, di leggiarlo. Mentre invece, cosa c'è di meglio? Di prendere l'avversario, anche quello che apparentemente si sembra meno intelligente, no? E dire, proviamo a capire se nella sua posizione c'è qualcosa che mi serve, che mi è utile, che mi fa crescere, no? A parte questa lezione di Sandella, Sandella ha una capacità esemplificativa fantastico. Lui comincia dicendo, ci sono due tipi di etica. L'etica delle conseguenze e l'etica kantiana, cioè l'etica dell'atto in sé. E dice, immaginate di essere alla guida di un camion, una strada che scende, prendete sempre più velocità e vedete che in fondo alla strada ci sono cinque operai che stanno facendo dei lavori, hanno le cuffie e non vi sentono, stanno trivellando la strada. Mettete il piede sul freno e vi rendete conto che il freno è rotto. A quel punto entrate nel panico, perché capite che di lì a pochi minuti col camion travolgerete cinque operai e li ucciderete. Siete disperati. Quando vi rendete conto con la coda dell'occhio che in realtà c'è una stradina laterale per cui girando il volante potreste evitare di ammazzare i cinque. Però in questa stradina laterale c'è un operaio che sta facendo i lavori, la stessa condizione, quindi ammazzate quello. Cosa fate? Girate il volante o no? E lui chiede ai suoi mille studenti, fa lezioni in un teatro meraviglioso, perché appunto essendo il più popolare di tutti i professori, quasi tutti alzano la mano. E lui comincia con quelli che non l'hanno alzati, che danno strane risposte, tutti ridono, eccetera, e poi diceva, uno di quelli ha alzato la mano, perché è ovvio, meglio ammazzarne uno che ammazzarne cinque. Beh, dice questa è l'etica delle conseguenze, è l'etica di Bentham, degli utilitaristi, il bene e il male si misura sulle conseguenze che produce l'atto. Cioè, ma voi pensate che sia così ovvio questo modo di... c'è anche l'etica dell'atto in sé. Prendiamo lo stesso episodio, la stessa scena, la stessa situazione, ma vediamola da un altro punto di vista. Voi non siete il camionista, voi siete un signore che sta su un ponticello prospicente ai cinque che stanno trivellando. E vedete un camion che si avvicina. Siete uno spettatore, diciamo. E vedete che questo camion, che per qualche motivo questo camion non si ferma, anzi accelera sempre di più. E capite che c'è un problema, c'è qualcosa che sta succedendo. Per cui di qui a pochi minuti il camionista ucciderà i cinque. E siete disperati perché dite come posso impedire a questa cosa di succedere. Qui si stanno con le cuffie, urla, eccetera. Poi vi girate e vi rendete conto che alla vostra destra c'è un signore grosso, grosso e grasso che si sporge dal ponte e che voi con una piccola spinta potreste produrre la caduta di quel signore a frapporsi tra il camion e i cinque, morendo ma salvando le vite dei cinque. Gliela date una spinta? Nessuno alza la mano. E lui chiede ma perché? Perché girate il volante e non date la spinta? Le conseguenze sono esattamente le stesse. Nell'un caso come l'altro sacrificate una vita ma ne risparmiate e salvate cinque. Perché evidentemente esiste un'etica che è legata all'atto. E quindi il bene e il male non lo giudichiamo soltanto rispetto alla conseguenza che produce ma rispetto all'atto in sé. Un atto ci sembra buono o cattivo. Tutto il corso di Sandel è come diceva lei l'opposto. Cioè tutto il corso in Sandel è un corso fatto con gli studenti. Cioè sono loro. Quando Sandel è venuto noi l'abbiamo invitato al festival di economia e lui mi ha chiesto cinque microfoni. Io non capivo perché. Perché a un certo punto dove aveva parlato venti minuti lui è sceso in Esplatera. Eravamo in un bellissimo teatro a Trento. Ha distribuito il microfoni e ha cominciato a far discutere. Ha detto ma secondo voi lì c'era un libro anche molto bello l'ultimo che lui ha fatto che si chiama What money can't buy? Ciò che i soldi non possono comprare. E allora ha cominciato a dire secondo voi è giusto incentivare la lettura dando ai ragazzi che legano un libro 10 dollari? Allora si alza uno e fa no ma no 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 la cultura è un atto gratuito ma no assolutamente non bisogna mischiare la curiosità intellettuale. Siete tutti d'accordo? Un altro alza umano dice ma no 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 perché in fondo se uno comincia a leggere magari gli piace quel libro magari da lì non ci vedo niente di male non vedo questo scandalo che uno dia 10 dollari per leggere un libro poi gli piace ne leggere un altro e chi altro è continuato così. E' andata avanti per mezz'ora facendo discutere il pubblico e trovando la strada diciamo dell'intelligenza attraverso questa interazione che è molto interessante quindi Sandelli ve lo consiglio molto diciamo per me è stata veramente una cosa fantastica è che Sandelli l'ho scoperto attraverso mia figlia io ho due figlie una che lavora con me Antonia e si occupa del web e ha fatto una cosa che adesso vi dico che si chiama Lea che è lo streaming dei libri e l'altra più grande che ha 28 anni che si chiama Margherita che fa l'attrice però si è laureato in filosofia con Montani all'università di Roma e ha fatto una tesi su Sandelli sull'ingegneria genetica perché c'è un libro bellissimo in Sandelli in cui dice che contro l'ingegneria genetica ma con questo argomento che rompe la catena di solidarietà cioè se noi programmiamo i nostri figli non possiamo più aspettarci che l'idea che la vita è un dono mentre lui pensa che la vita sia un dono anche per i non credenti e che la solidarietà scatta quando tu pensi che la vita sia un dono se la vita è una costruzione in cui tu potevi fare di tuo figlio un uomo o una donna forte intelligente coraggiosa eccetera è proprio la tua se non l'hai fatto perché devo essere solidale con te e mia figlia mi ha fatto scoprire Sandelli cosa che cito spesso quando si sente dire non solo avete sentito anche voi dire questa cosa fantastica che si sente continuamente dire i giovani oggi oggi per la prima volta si è ribaltato il rapporto delle generazioni di solito sono sempre le generazioni più anziane più vecchie o più grandi sapete che oggi una giovanismo italiano fa sì che a 80 anni quello dice è più grande più piccolo di me a 80 anni no le generazioni più giovani più grandi imparano dai più giovani per la prima volta imparano più giovani perché perché i più giovani conoscono la tecnologia no cioè cos'èbbe dire come un imbecille smanettone insegna al papà questa è una roba allucinante cioè mai in passato nella storia si è ritenuto che la tecnologia fosse la materia fondamentale rapporto delle generazioni la materia fondamentale rapporto delle generazioni la saggezza diciamo è la capacità di vivere bene e la qualità diciamo del modo in cui affronto la vita ma noi abbiamo evidentemente noi della nostra generazione riteniamo di non avere niente più da insegnare e quindi la cosa fondamentale è la tecnologia cioè la competenza tecnologica è quella che caratterizza diciamo il sapere di oggi e quindi sono i giovani che ci insegnano ecco nel mio caso devo dire la cosa più una delle cose più importanti che ho imparato negli ultimi anni è il pensiero di Sandel e questo me l'ha trasmesso mia figlia e per me è molto più importante questo che la tecnologia proprio la tecnologia la impari un modo una prospettiva per vedere le cose pensare per esempio come pensa Sandel che ciascuno di noi come pensa Papa Francesco sia fatto più di relazioni che di autonomia che sono tutti e due poli del nostro essere e che però la relazione conti di più quindi è costruita tra le proprie relazioni per me è molto importante c'è una cosa che mi guida nel no comunque tornerei io finirei qui tornerei alla domanda iniziale perché non si investe in cultura cioè perché il caso della normale in cui una grande istituzione investe in 300 studenti prende in carico per qualche anno scommette su di loro prova a vedere se da lì si tirano fuori idee nuove appunto scatte innovazione perché questo è un caso abbastanza isolato in Italia cioè perché la normale non è diventato un modello per altre università questo veramente una questione per me è molto importante perché costituisce diciamo il mio lavoro costruisce le persone a cui mi rivolgo prego che c'è diciamo una sfida culturale ma diciamo la cultura esiste in quanto esiste prima l'educazione ma anche soprattutto un'educazione alla cultura e parte fin da piccoli e io mi aggancio lei prima città vale o padio torno indietro e cito carducci naturalmente perché carducci fu un grande lungimirante e capì l'importanza della cultura ma della cultura elargita a tutti e naturalmente ci fu l'obbligo della dell'istruzione noi la chiamiamo oggi primaria ma all'epoca era elementare adesso c'è una sfida qui si tratta comunque di giovani molto fortunati perché comunque indipendentemente dal loro dalla loro provenienza dal loro ceto dalla loro capacità economica o comunque dalla capacità economica parentale si tratta di avere diciamo degli accessi all'università io parlo soprattutto perché non facciamo in modo che l'università l'università italiana ma comunque mondiale che non si è ancora arrivati a quello diventi non un lusso per pochi e di pochi gestito da pochi e quindi diventa una specie di mafia interna culturale che gestiscono anche sapere impediscono comunque la libertà alle persone comunque di scrivere sempre perché uno scrittore non può scrivere semplicemente perché è famoso e quindi smette di scrivere a vent'anni perché deve raggiungere i cinquant'anni per riuscire a essere scrittore uno scrittore è e basta indipendentemente dalle dal successo che potrebbe avere lo insegna Dante lo insegna Leopardi lo insegnano quindi si dovrebbe fare uno scatto in più e fare in modo cosa che i governi non hanno mai fatto non hanno mai pensato ma non hanno mai pensato neanche gli intellettuali di fare in modo che l'università sia effettivamente un diritto acquisito per tutti e quindi renderla obbligatoria e fare in modo che tutti a livello nazionale riescono ad accedere all'università ecco lì sarebbe un grande investimento dal punto di vista anche economico perché poi la preparazione degli studenti universitari è diversa di un ragazzino di 16 anni che rimane comunque attende un corso e va avanti nel corso degli anni a fare corsi non corsi che costano un sacco di soldi allo stato eccetera quindi questo è la libertà comunque perché se no non diventa un sapere egualitario ma diventa un sapere elitario poi volevo rispondere solo alla signorina solo un attimo che dal punto di vista religioso un conto al dogma un conto è l'esigenza della persona lei citava prima Lutero ma Lutero aveva una grande esigenza l'esigenza di sposarsi comunque con la donna che amava che era una monaca quando scoprì praticamente quando il papa per secoli vietava la lettura della bibbia e imponeva solamente la lettura del vangelo cosa hanno scoperto cosa scoprì Lutero leggendo comunque la bibbia non le parti della bibbia che gli arrivavano tradotte che comunque i sacerdoti potevano comunque sposarsi quindi lui semplicemente ha letto un testo precedente al vangelo che gli consentiva una determinata libertà ecco e da lì nacque la riforma protestante per un'esigenza comunque io volevo ricondurre un po la la sua riflessione partendo appunto da questi spunti sull'università ne parlavamo anche prima prima dell'inizio della della discussione c'è sicuramente in italia un problema di accesso all'università numero di laureati che che è più basso rispetto alle medie europee dei altri paesi occidentali però forse c'è anche un altro problema che è altrettanto grave forse se non più grave di questi e le riportavo la la posizione che la settimana scorsa era emersa in una discussione con con il professor capano in italia a differenza che in molti altri paesi lui faceva l'esempio dei soprattutto dei paesi anglosassoni l'università non riesce a essere il centro di formazione della classe dirigente lui si riferiva in particolare a all'esempio della della scuola normale della scuola sant'anna che potrebbero aspirare ad avere questo ruolo nella storia d'italia non l'hanno mai avuto se non forse in un periodo più o meno fortunato in cui le condizioni erano diverse l'italia usciva dalla dalla seconda guerra mondiale c'erano spazi diversi io mi chiedo forse il problema è proprio che quando noi ragioniamo di investimenti in cultura in italia ci chiediamo se appunto la quella da parte appunto della 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 classe che che governa la classe dirigente sia una scelta consapevole sia miopia io reputo che appunto si tratti più che di una scelta consapevole di di miopia cioè di mancanza di visione anche sul futuro su una progettualità su su più anni e mi chiedevo appunto quale può essere il ruolo di una casa editrice di un contesto appunto che stimola il dialogo nel formare insieme ad ambienti universitari una classe dirigente e con classe dirigente mi mi riferisco appunto non al al a un significato dell'eterio che forse la parola sta assumendo nel dibattito pubblico degli ultimi anni legandolo a burocrazia oligopoli o o elite ristrette quanto più a a un gruppo virtuoso appunto di di governo appunto quale può essere il ruolo di una di una casa editrice soprattutto come si ricollega questa formazione di opinione pubblica di sapere critico il progetto a cui lei faceva riferimento di di lea cioè può essere un nuovo spazio di discussione di dialogo di elaborazione critica ma dunque più che rispondere grazie è molto difficile rispondere alla domanda quale può essere il ruolo spero che ci sia un ruolo poi le posso raccontare come è nato il processo il progetto il progetto di lei è nato così prima ancora che entrasse a lavorare in casa editrice mia figlia di antonia che al pianoforte suona e piace da sempre la musica mi fa conoscere spotify ora tutti voi sanno c'è qualcuno che non sa cosa è spotify io mi abbono a spotify e come dire scopro veramente un mondo nuovo meraviglioso perché a parte i beatles c'è tutto adesso anche i beatles credo ma da poco no da qualche mese insomma e quindi entro nel mondo nel magico mondo dello streaming cioè quello che ha distrutto l'industria discografica in italia e un giorno parlandone con antonio antonia dice ma perché non facciamo anche per i libri lo streaming voi forse vi ricorderete che anni fa un futurologo un tipo abbastanza borioso ma intelligente che si chiama jeremy rifkin aveva detto stiamo entrando nell'età dell'accesso ha scritto un libro ha avuto molta fortuna dicendo i giovani ormai le prossime generazioni non hanno nessun desiderio di proprietà non gli importa possedere importa accedere car to go no che me ne frega a me l'altro giorno ero tutto eccitato perché avevamo la possibilità di affittare un appartamento a parigi per un periodo e mia figlia margherita ha detto guarda papà ti ringrazio io ho detto una cosa bellissima potremmo andare a parigi per una serie di motivi e ho detto ma io non ho nessuno bisogno vado a airbnb e ogni weekend che voglio cambio casa c'è che me ne importa a me di avere la casa no quindi un altro modo di vedere e in effetti pensando ai libri mi sono detto forse può essere un esperimento interessante e all'inizio abbiamo ragionato sulla possibilità di mettere online il nostro catalogo renderlo fruibile con un abbonamento e anche le novità però mi sono detto all'inizio ma non funziona non funziona perché se un singolo editore mette i suoi libri su internet è come se li mettesse soltanto i nirvana cioè non non basta che un singolo gruppo ancorché molto popolare la forza di spotify è che hanno tutto è che tu metti mozart e hai mozart e metti appunto come dire qualunque gruppo che minuto dopo che è uscito un 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 brano ce l'hai e quindi mi sono detto così non funziona non funziona però poi mi sono detto forse c'è un'altra cosa per cui può essere interessante fare un circolo di streaming di la terza che è il fatto che se esce un libro di una certa persona su un tema molto interessante si può raccogliere una comunità che discute online cioè che entra in questo club entra in questo club di streaming e fa un thread cosiddetto c'è entra e dice a rodotà guarda che sul tuo ultimo libro diritto d'amore quella parte non mi convince e ne discuto con gli altri ed è una discussione diversa rispetto a quella che ho online normalmente dove chiunque può arrivare e dire la qualunque questo è un club dove ti devi scrivere dai le tue generalità dai la tua mail e quindi in qualche modo anche se il pazzo può capitare sempre ma insomma è un ambiente più riservato devi anche pagare un mensile e forse questo senso di club intorno a una casa editrice può avere però mi sono detto alla fine neanche questo basta a giustificare un investimento una cosa che non esiste nel mondo non c'è nessuna casa editrice che abbia una cosa del genere la cosa che veramente mi ha convinto alla fine come terzo elemento è stato il fatto che ho detto ma qui in realtà può aprirsi uno spazio per un modo totalmente nuovo di fare il mio lavoro cioè modo totalmente nuovo di fare l'editore e pensateci un attimo io posso mettere un testo in una fase iniziale e lo cambio mano a mano cioè rodotà dice io c'ho un'idea che mi è venuta facendo una lezione all'università diritto d'amore vorrei scrivere un libro metto subito il testo della lezione posso far cambiare quel testo una volta che l'ho pubblicato e integrarlo ogni volta rodotà torna che ha visto un bellissimo film e dice caspito questa è una cosa che non ci avevo pensato intervieni e cambi e metti nella versione online ma mica ti fermi a questo puoi metterci una musica puoi mettere un filmato puoi metterci una discussione che hai avuto con un'altra persona puoi pensarlo dall'inizio come un testo che interagisce con le immagini con i video con i film cioè puoi far un'operazione intellettuale completa che rinnova completamente il lavoro dell'editore perché diciamoci la verità fino a oggi l'editoria digitale in che cosa si è concretizzata nel fatto che le stessi identici testi che erano su carta si mettevano in formato elettronico quali sono le grandi virtù degli ebook che sono state così tanto decantate il fatto che erano pratici perché sul tuo tablet ne puoi mettere 3000 il fatto che le persone anziane possono leggerle per carità cose importanti ma non cambiano il concetto mentre il libro il libro quando Gutenberg lo inventa cambia il concetto di lettura cioè il libro è una tecnologia che ha a che fare con una rivoluzione del pensiero prima la signora citava o lei citava il Vangelo e la Bibbia non è un caso che sono i classici che è la Bibbia non è un caso che all'inizio della sua circolazione il libro sia fatto soprattutto di zibaldoni cioè sia fatto di raccolte è che la forma libro filileggiata è il romanzo dell'ottocento è col romanzo dell'ottocento, col grande racconto che si struttura la nostra visione lineare narrativa del mondo che si struttura il fatto che quando noi parliamo di noi ne parliamo o ne parlavamo in senso cronologico e non è un caso che oggi si dica che col web questa visione è rimessa in questione perché quando noi navighiamo sul web i nostri percorsi sono molto più articolati non c'è un percorso lineare questo ha a che fare con la tecnologia del libro e come lavoro io quando lavoro con un autore? lavoro in termini di introduzione primo capitolo, secondo capitolo, quarto, conclusione e non è solo per la storia che questa è una narrazione cronologica si comincia nel 1800, si finisce nel 1850 ma è per tutto c'è un andamento lineare allora poter rimettere in questione questo è attraverso utilizzando la tecnologia che non è il fine ma ha bisogno di un mio pensiero nuovo ha bisogno di un modo diverso per me di guardare la realtà e di trovare una misura di questa realtà suggestiva, coerente, complessa che mantenga la complessità con la coerenza della complessità perché la cosa che per me è più interessante di internet è questa internet ha delle potenzialità straordinarie ma oggi si presenta soprattutto come una serie di nicchie si presenta come una serie straordinaria di possibilità che io mi metto in contatto con quelli che in tutto il mondo gli piacciono i manga delle tribù fantastico cioè come disse Marino Sinibaldi quando fece con noi il libro intervista disse io sono un ragazzetto di Velletri vado al bar tutti i miei amici parlano di calcio a me di calcio non me ne frega niente cioè proprio non l'ho mai sopportato il calcio sono un emarginato sono un emarginato vado su internet e mi metto in comunicazione con tutti quelli a cui piace non so il rock horror del gruppo i giapponesi che condividono è fantastico crea una comunità che prima non avevo meraviglioso però la mia domanda è basta questo è questo quello che ci piace di più la creazione di comunità separate oppure la cosa interessante qui alla normale è che si incontrano persone che vengono da varie parti d'Italia e magari a uno gli piace la storia contemporanea all'altro gli piace la filosofia all'altro la fisica ma in qualche modo hanno anche dei temi comuni ma in qualche modo litigano anche su cose che li tengono insieme o l'ideale è che ognuno si faccia i fatti suoi andando fantasticamente in profondità ma essendo un meraviglioso tecnico diciamo così specialista del suo argomento e questa è la cosa migliore appunto tornando al tema classe dirigente cosa terrà insieme la classe dirigente diciamo di quando voi avrete 30, 40, 50 anni qual è elegante? cioè qual è il dato comune? ma per esempio per esempio non sarà il libro vostro ma Harry Potter è stata la più strepitosa lettura comune di un'intera generazione la mia generazione non aveva un Harry Potter lì c'è stato un momento in cui tutti i ragazzi di una certa fascia d'età nel mondo almeno nel mondo occidentale leggevano Harry Potter e questo va molto bene soprattutto è un bellissimo libro come Harry Potter perché io credo moltissimo che noi abbiamo bisogno di avere interessi specifici ma anche abbiamo bisogno di avere una lingua comune se io no? cioè se io arrivo in una città e ho quattro ragazzi che vanno insieme all'università si trovano a casa e ognuno di loro sa perfettamente la propria lingua ma ignora totalmente la lingua degli altri non so se è la situazione migliore piuttosto che i quattro non parlano tanto bene ma piacciono un po' di inglese cioè da una parte non può dire ma se io conosco perfettamente la mia lingua la mia ricchezza concettuale è proporzionale sì è vero però voglio dire anche attraverso un inglese biascicato io comincio a scambiare con quell'altro e quindi ho una forma di arricchimento quindi l'idea di Lea che si chiama così Libri d'altro è questa allora intanto vi do faccio proprio marketing di quelli porta a porta anzi vi ho gruppetti così vi le distribuite voi l'idea di Lea è che se andate su Lea c'è un mese gratuito in cui potete vedere che cos'è Lea e poi diciamo l'idea è che poi piano piano al momento è molto piano piano perché è una forma totalmente nuova piano piano dovrebbe diventare un luogo di condivisione quindi per me l'ideale proprio la cosa per cui vi sarei grato è che voi mi proponeste qualcosa da fare su Lea da discutere su Lea cioè la cosa che per me sarebbe fantastica e si potrebbe fare anche per voi totalmente gratuitamente cioè senza pagare nessun abbonamento che voi mi diceste a me a noi piacerebbe molto mettere un testo su Lea un testo classico una cosa che ci interessa discutere e proporla per la discussione cioè discutere sul sito di La Terza tra di noi una cosa che ci sembra interessante perché è questo di cui abbiamo bisogno cioè creare un'abitudine a fare di Lea una cosa di discussione e guardate che non è molto diverso da quello di cui oggi c'è bisogno nei luoghi fisici perché l'altro giorno ero con i miei promotori commerciali dicevo o le librerie cambiano o moriranno moriranno in America il 50% del mercato lo fa Amazon il 50% del mercato lo fa Barnes & Noble cioè la super catena i libri indipendenti sono finiti sono il 2% e perché sono finiti? perché è ovvio che io non vado in una libreria se devo metterci un'ora di macchina come mediamente in una grande città ci devo mettere per poi non trovare il libro che cerco vado sul computer clicco su Amazon e quello dentro 24 ore me lo dà e non trovo neanche più nelle librerie molto spesso quella cosa che almeno un tempo c'era cioè il libraio idiosincratico diceva io ti conosco Ester io lo so prenditi questo libro perché questo è romanzo per te non trovo neanche più questo allora non trovo questo non trovo la scelta che ho su Amazon non trovo la scelta che neanche ho nelle grandi librerie che poi sono diventate molto spesso dei caffè se voi andate a Waterstone a Piccadilly c'è un bellissimo ristorante all'ultimo piano dove un sacco di gente si incontra beve il caffè cioè sono luoghi di incontro allora dicevo ai miei promotori in realtà i librai dovrebbero fare questo oggi cioè dovrebbero pensare che la libreria è un terminale dell'animazione culturale della loro città io sono un libraio a Brescia o sono un libraio a Benevento o sono un libraio a Grottaglie che fa 15.000 abitanti beh io sono il promotore dell'iniziativa culturale di Grottaglie la libreria è un momento di un'attività e dato che la gente ha un sacco voglia di fare attività culturali noi organizziamo io ho portato qua il Festival di Economia il Festival di Economia è una cosa stupefacente si farà adesso tra pochi giorni abbiamo cominciato la undicesima edizione abbiamo cominciato nel 2006 la gente diceva tu sei un pazzo ma chi gliene fega niente l'economia una roba arida respingente poi a Trento ma chi ci andrà mai a Trento cioè lontano eccetera beh abbiamo avuto 40.000 presenze non tenevamo la gente in queste sale meravigliose perché? perché diciamo l'economia è una cosa difficile ma ritenuta rilevante e allora l'idea che io forse capisco e poi nel Festival di Economia noi mettiamo sempre un sacco di gente a discutere il tema che non sono economisti per esempio quest'anno il tema dei luoghi della crescita perché a un certo punto esplode la crescita nella Silicon Valley in California e perché altre città decadono e allora chiamiamo gli economisti ma abbiamo chiamato Adriano Prosperi che era a dire Granada 1492 la riconquista che succede in quella parte del mondo perché una certa parte del mondo si sviluppa Cardini dirà Franco Cardini racconterà che succede quando Firenze che era un paesello un borgo sfigato e fu emarginato con il fiorino d'oro nel 1253 perché comincia lì la storia di Firenze c'è anche la storia è molto interessante ecco i festival sono un successo pazzesco pazzesco festival letteratura a Mantua festival filosofia ci siete mandati a Modena cioè mille persone ascoltavano uno sconosciuto filosofo sconosciuto poi ogni tanto dopo mezz'ora si vede qualche vecchietto di Mantua che si alza di Modena che si alza e se ne va perché vengono pure i vecchietti di Modena perché fa trendy per cui diciamo festival della scienza a Genova cioè ma com'è cioè com'è che tanta gente e tanti ragazzi anche vanno ad ascoltare perché secondo me c'è un'idea che al di là di tutto c'è anche un modo di stare insieme è un po' come perché voi state qua cioè se io vado al festival di filosofia e passo tre giorni a Modena c'ho qualcosa di simile con te no? cioè c'è qualcosa che ci mette insieme che ci tiene insieme c'è un percorso comune ecco io credo che questo sia un tema fortissimo e questo ve lo dire alla signora lei ha detto delle cose molto condivisibili ha detto però una parola ma non l'ha detta per i motivi che trovo io so bene lei ha detto elargire la cultura ecco la cultura io penso che non si elargisce ma la cultura si costruisce collettivamente cioè stando io qui stasera ma lo so bene stando io qui stasera diciamo la mia percezione delle cose si è già modificata per il fatto che io sto qui la cultura secondo me è un percorso di crescita appunto in relazione con qualcuno poi c'è una straordinaria definizione che da Tullio De Maro a un libro intervista che abbiamo fatto a un certo punto Erbani gli dice professore De Maro cos'è la cultura? allora De Maro dice beh la cultura sappiamo bene che non è più quella cosa che si pensava prima cioè che è Dante Leopardi Macchiavelli abbiamo capito la cultura è anche Marconi Einstein però siamo andati anche oltre abbiamo capito che la cultura è anche tecnica in realtà poi alla fine siamo arrivati a capire che la vera definizione la migliore di cultura è quella che danno gli antropologi e cosa dicono gli antropologi? dice Maro che la cultura è un insieme di elaborazioni storicamente determinate quindi non biologiche che risponde a un bisogno se la prendete così se ci riflettete un attimo se questa è la cultura cambia moltissimo la prospettiva e vi faccio un esempio se voi mai vi è capitato di vedere un'intervista con Totò Riina il potentissimo capo mafia avete visto che Totò Riina non spicci con una parola di italiano parla una strano metalingua tra Sicilia Sicule una cosa che uno dice ma com'è possibile? com'è possibile che una persona di tale rozzezza governi una multinazionale no? e poi capisci perché quella è la sua cultura quella è l'insieme di elaborazioni storicamente determinate che risponde a quei bisogni che non sono quelli che eserciti alla normale certo che alla normale Totò Riina è fuori ma anche il professore della normale a comandare la mafia secondo me dura poco cosa? è un'altra mafia c'è un'affermazione tosta va bene c'era c'era qualche altra prego io volevo soltanto raccogliere qualche suggestione che lei aveva evocato proprio nell'ultimo intervento nelle ultime parole partendo però da una considerazione sull'intervento di prima sull'estensione dell'università come obbligo per tutti io dico subito che non sono affatto d'accordo per me possiamo anche estendere come dire il dottorato a tutti quanti obbligatoriamente però questo diventa come dire depauperare la scuola della funzione che dovrebbe avere cioè quale sarebbe lo scopo di estendere obbligatoriamente la frequenza universitaria sarebbe quello di dire si parte in partenza sconfitti scusate si parte sconfitti con la scuola quindi deve arrivare l'università per dare quegli strumenti e quelle competenze e quelle conoscenze che sono necessarie sono necessarie oggi io credo che vada molto più ripensato invece il ruolo della scuola vada molto di più potenziato il ruolo della scuola nel fornire gli strumenti e questo è un compito che la scuola non può appaltare a nessun altro tipo di non dovrebbe ma purtroppo spesso si rende necessario questo tipo di operazione non dovrebbe appaltare a nessun altro organo questo è interessante mi richiamo a quello che lei diceva prima perché non ho capito bene cioè lei dice perché la scuola sì e l'università no sostanzialmente perché la scuola sì per tutti e l'università no sicuramente però mi dipende il punto e lo scopo però signora posso dire una cosa lei mi deve interrompere chi parla perché sennò non utilizzerà le cose intelligenti che le dice si precluderà questa possibilità sì no in realtà scusatemi se dico sì scusatemi se dico delle ingenuità io quello che ci tengo a dire è che almeno la mia idea è quella che di fondo ci debba essere un pacchetto strumentale di base che deve essere fornito poi l'università arriva dopo quando questo pacchetto strumentale dovrebbe essere già fornito quindi non quindi la scuola deve offrire solo un pacchetto strumentale essenzialmente un degli strumenti in grado insegnare a stare con gli altri anche quelli sono strumenti credo che si possano scrivere che strumento è stare con gli altri sì io mi riferivo semplicemente alla capacità di leggere criticamente una serie di cose nelle quali ci imbattiamo questo dovrebbe essere il ruolo della scuola insegnare a leggere criticamente il mondo più in generale scusate la formulazione ingenua e poi sì sicuramente anche a stare a stare con gli altri ma io mi volevo richiamare più che altro a quello che lei diceva prima perché pur ritenendo che questo compito non debba essere appaltato dalla scuola nessun altro tipo di istituzione è chiaro che tutte queste iniziative che mettono a contatto le persone sono fondamentali e sono le benvenute perché io credo oggigiorno ci sia una grandissima facilità nel reperire dati nell'accedere a diciamo conoscenze in senso molto lato questo è possibile utilizzando vari mezzi internet è sicuramente quello più inflazionato ma ce ne sono tanti anche il mercato editoriale rispetto chiaramente a molti decenni fa si è ampliato considerevolmente quello che manca spesso è trovare una come dire una linea guida in questo tipo di operazione che io ritengo si possa formare proprio nel dialogo costruttivo con le altre persone questo è per questo mi sembrava interessante raccogliere lo spunto che lei che le suggeriva è chiaro che in questo tipo di iniziativa avendo un confronto ci si può anche ci si può anche formare in un senso strumentale non soltanto come dire passivo di ricezione di dati io posso andare su internet e trovare informazioni fino a quando voglio praticamente fino alla nausea il punto è se sono in grado di leggerle o se sono in grado di avere una prospettiva critica su queste informazioni ripeto secondo me la scuola dovrebbe insegnare questo prima dell'università però questa è una considerazione un po' latere rispetto al nostro discorso diamo la precedenza a lei che non ha mai parlato poi c'era lui no vabbè ma se vuoi finire l'intervento volevo rispondere anche io alla signora anche se su un piano un po' diverso da quello che ha usato Michele perché io non penso che il problema dell'università italiana sia il fatto che non sia accessibile a tutti perché guardi vivendo in una comunità molto stretta dato che non ci nascondiamo i nostri erediti familiari e quanto la normale rimborso ognuno ogni anno ci sono quelli a cui vengono rimborsati 2300 euro e quelli a cui vengono rimborsati 50 euro l'anno perché queste sono le tasse che l'università italiana fa pagare a chi ha un reddito basso quindi insomma addirittura c'è sì sì Sto parlando di un'unità a nessuno, perché sennò diventiamo veramente iniziati. Qui si tratta, ci si possono essere studenti molto volenti, che però purtroppo... Però lei è preso un'altra volta, lei ha un'unità con gente. Cioè, nel senso lei sta presumendo che la cosa che avrebbe detto di Occo, non avrebbe... Ho capito che l'elitarismo... Ma ho capito che lei intende elitarismo non solo dal punto di vista economico, ma che poi le due cose sono naturalmente collegate. Nel senso, la provenienza da un certo ambiente sociale che non ritiene la cultura in grado di garantire un percorso... Ho capito. Però, guardi, prende in considerazione anche questo. Il fatto che l'università sia così accessibile porta anche una svalutazione del percorso che può dare la cultura della carriera, che può assicurare una cultura... Non sto dicendo che sono d'accordo con un maggiore elitismo dell'università, anzi tutt'altro, ma mi faccia prendere anche me l'opinione contraria. Perché, insomma, c'è questo... Raffaele Alberto Ventura è un blogger, un opinionista, che sostiene che anzi bisognerebbe limitare ancora di più l'accesso all'università perché col fatto che le nostre lauree, al momento, guardi, non vagano nulla perché non abbiamo assicurato un lavoro con la laurea, si investe molto di meno sulla cultura anche dai cedi più svantaggiati perché se la laurea, il dottorato non ti assicura veramente un posto di lavoro, non ti dà i soldi, non puoi fare carriera, e allora che vai a studiare a fare? Mettiti a lavorare subito che fai prima. Questo è un po' il discorso. Sì. A livello politico, anche a livello, diciamo, di docenti, di persone che si chiudono e nel loro mondo dicono intanto penso al mio lavoro, se no, se ce ne sono molti, non riesco più a ottenere a fare un concorso. Invece, la qualità è proprio questo. Ci possono essere soggetti in grandi difficoltà economiche, che sono di reali, svantaggi sociali, svantaggi familiari, che però potrebbero, con le loro capacità intellettive, raggiungere effettivamente scopi diversi. Se no, effettivamente vanno tutti a diventare il coraggio della mafia, e questo è un problema. Ok, grazie. Passiamo a noi. E' una fortuna, ma te, che viene anche un'attività. Anche se, in realtà volevo aggiungere una cosa. Un po' fuori binario, comunque... Siamo andando fuori binario. Cioè, nel senso di non avermi intercettato le parole della signora come interpretate la collega. Quindi, beh, deve mai bisogno... Vorrei dire che l'università, secondo me, deve anche formare delle professionalità. Quindi, che vuol dire? Estendiamola a tutti obbligatoriamente. Credo che... Adesso non ricordo le statistiche, ma forse in Italia è uno dei peggiori... C'è il maggior abbandono, fuori corsi, eccetera, eccetera. Quindi, inserendo tutti, recuperiamo dieci menti eccellenti, ma poi appesantiamo il sistema notevolmente. C'è una straordinaria definizione di che cos'è l'uguaglianza delle opportunità di Piero Calamandrei, che era un grande giurista che interviene nella Costituzione e dice l'uguaglianza è in un libro Sellerio, che vi consiglio di Calamandrei, bellissimo, in cui si scrive... Notate che ho consigliato i libri del Mulino, Sellerio, Feltrinelli, questo, diciamo, lo apprezzate come... Mi costa, eh? Non è una cosa che faccio così... In questo libro c'è uno discorso bellissimo in cui Calamandrei dice la vera uguaglianza è quella in cui non solo il figlio del contadino potrà fare l'avvocato, ma in cui il figlio dell'avvocato potrà fare il contadino senza per questo sentirsi sminuito. E qui c'è un po' della questione di cui stiamo parlando, no? Cioè, io credo che uno può benissimo pensare di essere una persona colta facendo il contadino. Anzi, credo che tutti noi abbiamo conosciuto persone colte che facciano mestieri semplici, no? Le due cose non si escludono. Chi è che ha alzato la mano? Sì, poi c'è anche lui. Una domanda, insomma, completamente diversa, un dubbio su Lea, che è molto interessante. Sì, sì, ma non c'entra assolutamente niente con la discussione interessante. Cioè, è una cosa davvero molto interessante questo esperimento. Sono un po' perplesso, però, perché mi chiedo, insomma, cosa rimanga della funzione tipica dell'editore di, insomma, assistere l'autore nella costruzione del libro? Ecco, insomma, la terza qui cosa fa a parte mettere a disposizione uno spazio di discussione anche molto selezionato perché non è uno spazio del tutto aperto e perché qualcuno dovrebbe condividere quello che scrive su Lea e non su un qualsiasi altro luogo informatico di condivisione e discussione di testi come può essere Google Drive o Accademia. Cosa implica questo per il ruolo dell'editore? E' una differenza che sia diverso dal fatto di fare i libri, perché lei vedrà una diversità? Beh, no, non vedo una... cioè, non capisco quale sia il ruolo della casa editrice. Ah, ecco, cioè, comunque l'obiettivo è poi arrivare... vuoi che si interessa storia antica? Nessuno. Allora, questo è il suo ruolo. L'altro giorno, al Salve di Ligio di Torino, Campo ha fatto una lezione su un dialogo tra tedieschi e oligarchi dell'Isola di Medo. Arrivano i tedieschi di Pero e dicono noi siamo molto più forti di voi, vogliamo assoggettarvi, vogliamo parlare col popolo. Gli oligarchi dicono no, non parlate col popolo, parlate con noi. Allora, entrano in un palazzo e si avvia questo dialogo, che è un dialogo meraviglioso, in cui lo dicono, vabbè, allora dato che non parliamo col popolo, dicono gli attenesi, eviteremo il solito argomento, cioè che è giusto che vi sottomettiamo, diremo subito che ci conviene, siamo più forti, quindi lasciate stare e sottomettetevi. E comincia un dialogo perché gli oligarchi dell'Isola di Medo dicono no, allora se noi trasferite l'argomento sull'utile, vi possiamo dire che non vi conviene, perché noi resisteremo e vi faremo perdere talmente di quelle forze durante la battaglia che alla fine forse vincerete, ma sarete. E poi noi potremo agliarsi via Sparta, allora gli attenesi dicono voi vi illudete se pensate a quelli di Sparta per voi, poveri, disgraziati. È un dialogo teatrale. Se io pubblico questo libro così, posso soltanto fare quello che ho fatto, cioè mettere il dialogo teatrale nel libro. Se io lo pubblico sullea, posso chiamare due fantastici attori e li faccio recitare. E voi andate sullea, trovate il libro, trovate il dialogo scritto e trovate i due attori che recitano. Cioè posso fare una cosa in più. Il ruolo dell'editore, lungi dall'essere ridotto, viene fortemente. Il problema, anzi, è che si apre una prateria dentro la quale l'editore deve capire cosa può fare di nuovo. E la cosa interessante, ovviamente, è che fare l'editore non vuol dire mettere insieme come certe cattive insalate, ingredienti, la rinfusa. Più ne metto e più funziona. Non è così. Non è così. Io posso mettere una frutta, ma devo capire quale frutta insieme con il pollo o la tuga. O come in certe musiche, no? In cui dice che è bella, è una musica fusion. Fa schifo. Perché si sente la disco sotto, adesso voi siete troppo giusto, un tempo si dicevano queste musico, la disco sotto e le musiche latine sopra, no? Il melodico. Cioè è una roba rivoltante. Questo non vuol dire che la musica fusion non possa funzionare. L'editore deve capire qual è il rapporto tra immagini, testo, audio. No? Cioè non è banale. Fare un e-book in cui io metto insieme, per esempio, grafici, testi di riflessione, immagini, è molto complicato perché io non devo né fare la televisione, non devo fare il programma televisivo, sennò diventa una cosa che c'è già. Però non devo neanche fare il libro illustrato in cui porto il testo e poi ogni tanto vedo la bella immagine. Devo fare un'altra cosa che finora non c'è, non è stata ancora prodotta, ma che secondo me arriverà, in cui l'attenzione dell'ascoltatore riesce a viaggiare tra diversi livelli di comprensione e di sensibilità e, come dire, sensoriali, senza perdere la qualità di nessuno di questi. Cosa? Niente affatto facile. Non so se ho risposto alla sua domanda. Ok. Ha vinto il premio? Glielo passa al suo... Ma aumentare con la dimensione del libro andare a un'altra dimensione della banca? Sì. Cioè, provare a immaginare, è per questo che il mio lavoro è un lavoro fantastico, perché è un lavoro in cui tu hai due poli. Hai un polo che è fisico, cioè l'editore ha un problema fisico. Io, se faccio un libro, so che quel libro non può costare più di X. Io, Canfora, l'ho messo a 20 euro. Mi sono incazzato con i miei perché doveva costare 24, quel libro. Perché il Canfora precedente costava 24, l'avevamo venduto benissimo. E se io posso metterlo a 24, anche se a me mi costa da 20, io, come imprenditore, lo devo mettere a 24, perché sono quei 4 euro che mi pagano il giovane ricercatore che non si chiama Canfora e cui investo in perdita. I 4 euro che io guadagno su Canfora mi servono per pagare il giovane ricercatore bravo su cui, come Canfora all'inizio, che certo non vendeva le 15.000 copie che vende adesso, e quindi il mio è il lavoro fisico perché io devo sapere che devo fare un prodotto finito che ha una rilegatura, un numero di pagine, che ha un impatto, in cui c'è un marketing, in cui devo pensare a chi mi rivolgo, devo pensare al rapporto alla prima edizione e quella tascabile. In Italia manca completamente il mercato tascabile. La forza del mercato anglosassone, che è 3-4 volte quello italiano, è che lì tu vedi nella metropolitana di Londra la gente che legge i pocketbook. Quando noi abbiamo pubblicato una bellissima storia della mafia di John Dickey, giovane storico inglese, la mia prima edizione che ha funzionato erano 10.000 copie, l'edizione dell'editore inglese era non più o meno uguale. Quando io l'ho ristampata in economica, io ne ho fatte altre 10.000, lui ne ha fatte 100.000. Cioè nel momento in cui lui è passato da 20 sterline a 8, a 7, lui ha fatto 100.000 copie perché a lui gli si è aperta una prateria di possibili utenti. E me no. Noi abbiamo una cultura in Italia sui libri fortissima al vertice. Voi pensate che i cosiddetti lettori forti, in Italia si classifrono lettori forti, quella legge almeno un libro al mese, 12 libri l'anno. Questi sono 3 milioni e guardate, fate molta attenzione a questo numero perché lo stesso che va su internet e usa internet e lo stesso che va al cinema, che va ai teatri, che va ai musei, sono l'elite italiana, l'elite della cultura che non ha potere. Quasi mai questi sono manager, quasi mai sono politici, quasi mai sono assessori comunali, magari anche la cultura. Non sono in quel gruppo di very high. questi qui spiegano il 40% dei libri venduti sul mercato italiano, cioè il 40% dei libri li fanno i lettori forti, li comprano i lettori forti. E non fatevi ingannare da quelli che dicono i giovani non leggono perché non è affatto vero questo, al contrario, la percentuale più alta di assorbimento dei libri dal punto di vista dei lettori è dell'età tra i 15 e i 25, dal punto di vista degli acquirenti tra i 25 e i 35. Cioè quel dato medio di lettura italiana che è il 43 e il 44% si alza significativamente fino ad arrivare al 55 e 60 nella fascia d'età dai 25 e 35. La gente della mia età legge molto meno di quelle della vostra età. Il che non è vero per i giornali. Il giornale è finita, cioè i lettori di giornali sono pochissimi e questo apre tutto un enorme altro capitolo. Che vuol dire informarsi attraverso Facebook? Cioè quali informazioni mi arrivano dai miei amici? E se succede qualcosa di clamoroso che non interessa ai miei amici, io come vengo a saperlo? Ma questo me lo potete dire voi, insomma. Però i ragazzi, i giovani leggono moltissimo i libri, o comunque, li leggono di più di quelli di 50-60 anni. Non mi ricordo perché avevo fatto tutto questo discorso? Non mi ricordo. Vabbè, questo è. C'è qualcuno di voi che si interessa di filosofia? Lui ha alzato la mano prima. Questo, per esempio, è il caso di quel 4%. Lei si chiama Lea Ipi, è una ragazza albanese che è venuta qui senza una lira, strepitosa di un'intelligenza clamorosa, ha vinto tutte le possibili borse di studio, ha fatto l'università a Roma e adesso è a Oxford. E ha fatto questo libro che si chiama Stato e avanguardia e cosmopolitiche. Non è un libro che io capisco facilmente, ma forse lei sì. E comunque, è un caso in cui quel libro sarà in perdita. Cioè, l'abbiamo fatto perché abbiamo investito in una persona giovane che ci sembrava di grandissima qualità. Devo vendere i libri che riesco a vendere per riuscire a fare... No, perché io alla fine dell'anno devo andare almeno in pareggio. Io non posso perdere soldi. Perché non ho, come altri editori, magari che sono nel gruppo Mondadori, per non fare nomi in Audi, il nostro nemico da sempre, diciamo, il gruppo dietro di me che mi sostiene. In questi giorni è successa una cosa terribile. Si è creato il più grande gigante editoriale dell'Occidente con Mondadori Rizzoli. Non c'è un altro paese che abbia una concentrazione come quella. Hanno il 30% del mercato. Ma soprattutto, che è ancora più grave, il secondo editore e il loro competitor è il gruppo Mauri Spagnoli che ha il 9,5. Cioè, questi sono tre volte più grandi del secondo editore. Questo non esiste nel mondo. Non c'è nel mondo un altro mercato editoriale in cui il gruppo numero due sia un terzo del gruppo numero uno. Questo vuol dire che questi condizioneranno qualunque cosa. Cioè, è evidente che quando entra l'uomo della Mondadori pubblica il prossimo libro di Dan Brown e dice al libraio qui sotto amico, togli tutto quello che avevi in vetrina e mettici il mio libro perché il libraio dica no e diventa un atto eroico, risorgimentale, diciamo. E non va bene. Cioè, non va bene che sul mercato ci sia questa. E noi abbiamo fatto una lettera aperta a Pitruzzella dell'Antitrust perché l'Antitrust ha fatto una bellissima relazione istruttoria in cui diceva c'è posizione dominante cioè si riduce la competizione in quasi tutti i mercati salvo lo scolastico perché lì c'è Zanichelli e Zanichelli ha il 24% contro il 28% e Mondadori. Quindi in quel caso Mondadori è il primo ma c'è un concorrente quindi lo tiene a bada. Hanno fatto questi istruttori dopodiché Mondadori gli ha fatto delle proposte tipo briciole e questi l'hanno accettato e hanno fatto qualche correttivo. Gli hanno imposto di vendere Bonpiani a Rizzoli quindi Mondadori e Bompiani e Marsilio che fanno al massimo il 3% del mercato. Rizzoli ne faceva l'11%. Quindi, vuole dire, è un topolino però il silenzio di tutti perché Mondadori ha 600 librerie tanto per dirne una. Le vendite di Camilleri di Sellerio che è una bellissima casitrice indipendente per metà si fanno le librerie Mondadori per metà. Mondadori è nella grande distribuzione Mondadori è online controlla le piattaforme di vendita e gli ebook oltre che come sapete Mondadori è parte di media se c'è i giornali la televisione ma questo tipo di cultura in Italia non c'è perché purtroppo tragicamente in Italia l'economia sembra una cosa separata diciamo dalla cultura sembra che la libertà del mercato non sia stessa cosa della libertà del pensiero gli umanisti guardano il mercato con diffidenza come se il mercato fosse una giungla in cui essere liberi vuol dire essere il gorilla che è più forte e si approfitta del più piccolo per cui gridano la censura se magari Mondadori cambia due righe ma non hanno particolare sensibilità a questo tema che invece è un tema fondamentale in America l'antitrust è una cosa seria ma anche in Europa hanno sanzionato Microsoft a un certo punto cioè come dire essere sul mercato vuol dire anche competere con gli altri a beneficio dei consumatori una cosa che dice sempre Carlin Petrini che è un altro mio guru di Slow Food dice io non ho niente di contrario che apre un supermercato purché rimangano gli altri negozi però perché se arriva il supermercato come quasi sempre succede butta fuori gli altri hai voglia di dire eh ma quel supermercato ha una bellissima scelta eh ma quel supermercato ha dei prezzi fantastici è molto buono per il consumatore certo che è buono ma è uno e quindi sei nelle sue mani diciamo ma lo esercita con bontà sì ma la monarchia non è il mio sistema ideale onestamente anche se il re può essere buono cioè non è che per questo io sono monarchico no? semplifica molto la monarchia non c'è dubbio c'è uno che decide no? la complessità della democrazia che è difficile eccetera beh può essere anche uno buono sì ma io non la voglio la monarchia e quindi non voglio un mercato in cui ci sia un soggetto che condiziona tutti io voglio un mercato in cui tutti siano nella massima competizione a beneficio del consumatore cioè che io debba lottare per avere i prezzi più bassi perché solo mettendo il prezzo più basso vendo il mio libro per esempio e mi devo conquistare giorno per giorno il mio spazio questo vale per i libri come per tutto ma per i libri o i giornali vale particolarmente televisione è un caso drammatico in Italia drammatico drammatico cioè noi abbiamo due televisioni e questo non va bene perché un giornalista so che qualcuno di voi ogni tanto fa il giornalista un giornalista che non trova lavoro viene cacciato dalla Rai magari perché criticava Berlusconi ha finito ha chiuso se fa il giornalista televisivo cioè deve andare a lavorare per Telenorba che è la nostra emittente pugliese quindi noi che consideriamo importante ma onestamente diciamo no e quindi come dire la competizione sul mercato è uno degli indici della civiltà di un paese e l'Italia ha uno degli indici più bassi da questo punto di vista come ha come dire altri indici molto bassi come la lettura dei giornali che anche quella in Italia è bassa oltre che quella dei libri il problema è che ha anche Mondadori se no si poteva riciclare come dico ha anche Mondadori Berlusconi se no si poteva riciclare il giornalista e lo scrive va bene io penso siamo alla fine chi gli interessa internet ah e c'era lei cioè andiamo avanti per sfinimento praticamente io devo diamoci un tempo sì io esordisco dicendo che mi interesso gli anni 50 e 60 perciò se ha qualcosa sono qua meglio le voci degli IPIS documenti rivolto a studentesca o italiano o francese rivolto a studentesca no italiano o francese ah italiano eh sì direi direi sì 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 è proprio su quello su cui devo fare la tesi dunque dunque andando alle cose serie per quanto riguarda l'argomento dell'università italiana credo ovviamente pongo a tutti quanti la questione che l'università italiana non abbia la struttura per reggere il pubblico a cui è rivolto e questa è una è una problematica cronica e in verità non ha nemmeno una struttura per un fine preciso perché si è tanto discusso dagli anni dalla fine degli anni 40 a oggi ancora su quale ruolo abbia davvero l'università e si è girovagato fra il formare la dirigenza Giuseppe lo diceva prima formare le persone i cittadini oppure formare le competenze lavorative o trasmettere la cultura o formare i ricercatori si è cercato di fare un po' di tutto quanto in realtà non riuscendo bene in nulla e sinceramente non guarderei alle soluzioni che magari l'estero e soprattutto il mondo anglosassone ha trovato mi riferisco soprattutto al caso inglese in cui la soluzione è quella principalmente del classismo in cui dominano Oxford Cambridge e soprattutto quella meno citata dall'opinione pubblica ma quella ancora più influente Eton Eton che è la fucina della classe dirigente che a sua volta è quella che economicamente è dirigente non è una soluzione che vorrei adottare per l'Italia sinceramente ha già tanti altri problemi quella di Eton quella di Eton ecco sì perché lì sì che diventa una forma di elitarismo dunque a questo contraporrei il concetto di cultura l'università non deve essere l'unica dispensatrice di cultura deve avere un ruolo preciso non è mio non voglio prendermi la responsabilità sinceramente adesso di dire quale opposto le varie questioni si può scegliere si può scegliere su quali cosa contrappone l'egualitarismo l'egualitarismo a livello sociale ovvero una società che sia capace con le sue strutture e le sue organizzazioni di distribuire di coltivare di far costruire relazioni e dunque cultura come diceva lei prima e infatti se io sono uno bravissimo per la matematica un figo pazzesco che fin da quando aveva 7-8 anni c'è e che entro nell'elite dei matematici mondiali che ci vede di male? si perché lei pensa che io non trovo un confine presume che io non trovo un confine tra l'elite e l'elite io non so non mi piace il termine l'elite ma io ti chiedo io sono abbastanza ancora con Cantola cioè Cantola sostiene non solo lui e le litte ci sono sempre state il problema è la circolazione dell'elite cioè il problema è riuscire a cambiare questi diritti in continuazione senza sfarcimento di sangue e sulla base di qualcosa che possibilmente non sia la casata cioè sono lì perché sono figlio di quello i soldi sono lì perché vuole parte di un paio e un paio di un paio ma lasciano tutti i soldi ergo da sezione progressiva altissima nella mia idea cioè ma un po' che Martioni guadagna mille volte un reale questo mi adatto a solo di parlare un po' campano io sono pazzesco e l'archeologio guarda mille volte un reale io non c'è niente di male l'archeologio parla il 90% di posta progressiva tanto che gli basta comunque incentivarlo a guardare l'archeologio quindi che è it cioè può esistere una società senza it può esistere una società senza persone che guidano gli altri cioè le avete viste nel 68 dice compagni decidiamo tutti insieme questo attasso nel mio liceo decidiamo tutti insieme e l'assemblea decide era il periodo prioritario che ho mai visto cioè mi piace chiedere di scuola che non erano riconosciuti secondo nessuna procedura non si votavano mai era totalmente informale non erano accidenti erano quelli che lanciavano il corpo esterno che piacevano le ragazze che danno su cui ci sono era una società assolutamente di tale però che non lo riconosceva peggio perché io penso che i sistemi peggiori sono quelli di cui tutto si rivolge nel sedere di stanza io penso che in America va benissimo che le società possano finanziare i partiti politici con due due quindi devono avere un limite economico che è uno degli atti più gravi della Costituzione americana gravissimo perché nel 2010 la Corte Suprema elimina i detti a finanziamento gravissimo prima il sistema dei detti io multinazionale americano devo dichiarare sono farmaceutica voto il candidato presidente lo devo dichiarare in modo che tutti sapranno è quello che parla delle politiche no? e però c'è un tetto no? e quindi la trasferenza è fondamentale tutto di che come dire il militarismo mi sembra in due parole proprio il populismo e cos'è il populismo l'altro giorno ho detto una cosa ho detto si parla di corruzione ho detto questo è un paese corrotto eeeh poi ho detto la guarda di finanza ha detto l'altro giorno ho detto un rapporto del 70% degli appalti in Italia il 70% risulta toccato ah ma sei populista e poi ho detto la verità cioè non so forse truccano i dati quindi la guarda di finanza questo per rispondere e ritornare la domanda a lei anche qui bisogna capirsi che qual è il primo punto di attacco uno dei pensatori liberali che abbiamo pubblicato a cui sono molto affezionato è Raad Danico grande sociologo tedesco prima va in America poi va in Inghilterra si stabilisce in Inghilterra diventa direttore all'unico economico e il Parlamento diventa l'ordine ed è un liberale progressista scrive una pagina in un posto e chi dice io non ho niente contro le diseguaglianze siamo diseguali la diseguaglianza è il sale della vita e il pezzo è uguale a coltivare con due limiti uno è quello che mi chiama entrenched privilege cioè i privilegi che si ripetono appunto il figlio dell'avvocato fa l'avvocato cioè il sistema corporativo in cui io mantengo il diritto secondo me diritti minimi in cittadinanza non posso accettare che con la società comunque questa diseguaglianza si viva in troppo ci sia gente che perde i ritmi naturalmente lì si apre le discussioni quali sono i ritmi la sanità la scuola il sussidio di disoccupazione il reddito di cittadinanza che oggi si discute e qui naturalmente cambia luogo secondo me però capisce che questo è un approccio molto diverso da quello della sinistra tradizionale molto diverso che parte apprezzando la diseguaglianza non dicendo la diseguaglianza è un male dicendo la diseguaglianza non c'è niente di male il problema è che i limiti mettiamo al fatto che questa diseguaglianza diventi un dirompente della società c'è un punto oltre il quale la diseguaglianza rischia di rompere le grandi sociali questo per me è molto importante sa perché? perché io penso che c'è stata una rivoluzione culturale in occidente questa rivoluzione culturale nasce proprio dal 68 ma continua fino a Margaret Thatcher di questa rivoluzione culturale forse il simbolo più stranale è Steve Jobs Steve Jobs apponda le sue radici in California negli anni 60 nella cultura libertaria e poi diventa l'impeditore più spregiudicato civico opportunista che ci sia le due cose non hanno soluzioni in realtà l'interno da un anno nel 68 che aveva una parte comunitaria cioè aveva una parte sommetta di vista la canzone Chicago di Broadway Steve Nascinian non vogliamo regole non vogliamo imposizioni è una rivoluzione anticompromista fino agli anni 50 la gente che usciva dalla guerra dal dramma si vestivano abbastanza simili anche i giovani parlavano tutti uguali ma ci sono dicendo non si tratta come di pare basta questo anticompromismo diventa a un certo punto literismo cioè nelle propaggioni italiane la penna pure per lo scondi non mi rinforzerà come la libertà non fa cazzo di pare quella presa per il culo però c'è qualcosa di questo libertarismo che secondo me di cui non si torna indietro ci sono convinto che da quella cultura che in realtà del genno ha dominato nel 80-90 non torna indietro recuperando di dell'uguaglianza che si aveva fino agli anni 60 tradizionale del socialismo per cui l'obiettivo che secondo me la sinistra tradizionale fa così fatica per la gran parte la gente non può essere uguale la vera distinzione secondo me che la vera la maggio esempio tra la libertà positiva e la libertà negativa che ci vogliono tutte e due la libertà d'arte mi fa l'esempio fantastico che è tutto il parco e dice la libertà che rivendica diciamo la destra e la libertà negativa tu devi attraversare il parco senza che ti assalti di interruggarti di un protocollo quindi ci vogliono le guardie ci vuole la sicurezza la libertà d è quella che rivendica la sinistra ci vogliono gli scivoli della vita parla non basta che ci sia la sicurezza ci vuole una libertà di accesso dice sempre ho provato che è un errore della sinistra dire che ci vuole solo la libertà positiva la libertà negativa è importante lo dobbiamo parteci che è una libertà più piena e io credo sia questo oggi il vero tema più interessante del corale finale politico che magari non sarà più destra e sinistra ma visce l'essere perché senza conflitto di idee non c'è l'intrazione io penso che questa sia una distinzione interessante cioè quale libertà oggi ne vogliamo qual è l'idea di libertà perdiamo su questo si può decisivamente discutere con le cittime divisioni tra posizioni diverse tra uno che ha più libertà come autonomia individuale io sono diverso da te non ti ingerire nella misfera che è un'idea assolutamente rispettabile giusta è un'idea fuori del vento ma mi piace l'idea della bambina africana che ha un libro di remoto di grande antropologo quando chiede come di chiama risponde con uno del suo paese lei mi quindi ripeto la mano due tre volte e continuare perché per lei la libertà è la sua comunità non c'è un'identità con la bambina fuori dalla sua famiglia dal suo gruppo che anche un'idea di libertà è la possibilità di fare una cosa non soltanto di dipendere dall'invasione degli altri ma di fare ogni altro qualcosa vedete sono pronto che la politica non c'è per fondare perdoni ero partito dal classismo presente in Inghilterra e chiunque c'è stato testimone in cui non è possibile arrivare anche con tutto l'impegno del mondo a entrare al vertice una cosa e questo è l'itarismo una cosa invece che ci sono dei vertici per favore sì ma comunque sì questo non significa che appunto non possono cambiare cosa a livello volito comunque visto che vedo la discussione la passione passo a un altro punto un po' più che pertiene al mio ambito scientifico volevo sapere se ci sono dati riguardo appunto qui abbiamo dati odier invece della lettura negli anni passati perché credo che sia possibile individuare un crinale cronologico ecco che è quello della fine dell'epoca che lei diceva appunto cioè fine anni 70 inizio anni 80 in cui si avvera forse però la butto lì come ipotesi una sì comunque credo che sia lì il periodo in cui si avvera quello che diceva che chiedeva un ambasciatore americano di fine anni 40 in America cito poi dal libro di Paul Gisborg l'Italia non sarà un paese ben governabile fino a quando i cittadini non smetteranno di chiedersi e di discutere su quale sia il miglior politico per discutere di quale sia il miglior detersivo al supermercato credo che in una certa misura questo sia accaduto fra anni 80 e anni 90 però appunto non ho prove e la butto lì come ipotesi di lavoro e poi come ultimo punto significa che c'è una minore consapevolezza politica negli anni 50 e 60 anche i partiti erano uno sprone non soltanto di lotta politica ma anche civile culturale si andava alle sezioni di partito si discuteva si leggeva ci si proponeva e soprattutto c'era quella relazione quella relazione che creava cultura e che forse ma ripeto sempre forse si è andata perdendo alla fine di questo periodo che appunto ho proposto non so se sono stato abbastanza chiaro e poi l'ultimo punto molto veloce ma davvero veloce è il confronto fra esigenze di azienda contro quella di far discutere perché qualche giorno fa nemmeno tanti giorni fa c'è stata un'altra persona del settore dell'editoria che invece ci proponeva l'importanza semplicemente di fare profitto lavorare in un'agenzia editoriale era un'agenzia come tutte le altre che aveva bisogno di un profitto e dunque non soltanto bisognava pubblicare il libro colto il libro interessante ma anche il libro semplicemente che vendeva lei invece ci propone un'altra chiave di lettura del mestiere che è quella appunto non di pubblicare il libro ottimo ma il libro che fa discutere ecco all'interno del suo mestiere qual è il rapporto di forza l'equilibrio che lei ha trovato appunto fra le esigenze editoriali anche di profitto che sono logiche e normali e quelle invece culturali cioè di pubblicare il libro che fa discutere ma magari non fa vendere così tanto c'è qualcun altro chiudiamo diciamo io vorrei pubblicare libri che fanno discutere sono scientificamente straordinari costano nulla si leggono molto bene si vendono a palate è difficile cioè non c'è niente che io non vorrei vorrei guadagnare moltissimo fare una vita ad Anababbo potrei avere lo yacht eccetera e vorrei fare libri che rivoluzionano il pensiero dopodiché faccio tutti i giorni compromessi su questo ogni tanto mi succede di pubblicare dei libri illegibili perché se ne adottano 400 copie l'anno è terribile dover dire al professore va bene d'accordo lo pubblico è un libro per cui soffro per i suoi allievi cioè immagino questi poveretti che devono studiare un libro illegibile ci sono dei libri in particolare insomma avete presente queste materie che si chiama sociologia della comunicazione terrificante io ricordo che una volta venne a trovarmi una ragazza allieva di un professore di cui non dirò il nome per carità di patria che insegna all'università di Roma e mi disse dottor La Terza vorrei fare una tesi sull'editoria e allora vorrei farle un'intervista dico benissimo allora prima domanda se l'era scritta nell'epoca della straordinaria ipertensione culturale che ci proietta di una modernità telepatica in cui nel liquido come ha scritto Bauman si avvera un intreccio di relazioni che intellettualmente parlando produce la estraneazione della modernità lei come si colloca? allora io lì ero in fortissimo imbarazzo perché lei era una ragazza intelligente era stata distrutta da questo qua dal professore ma non era colpa sua e cosa gli risponde? ha detto guardi non ho capito bene la domanda me la può ripetere? lei ripete praticamente con le stesse parole dico guardi questa domanda lasciamola per un attimo da parte passiamo alla seconda me ne fa una seconda che è uguale siamo andati avanti così per venti minuti io ero in grandissima difficoltà e poi ho deciso che la cosa migliore era dire quello che mi capitava per la testa senza alcuna attinenza non so neanche che cosa perché non e ho cominciato anch'io a parlare più o meno così dicendo in quest'epoca in cui noi viviamo estraneati dalla modernità il lavoro dell'editore si colloca ai margini di una pensiero che però si proietta nel futuro e lei tutto sommato scriveva ma mentre lei scriveva io dicevo certo questi fanno danni irreversibili ma c'è anche di peggio di così io ricordo una serata di compleanno di un illustre linguista mi trovo vicino seduta una signora che insegna letteratura italiana all'università di Roma e si parla di giorni soliti discorsi da tavola diciamo in cui anche negli ambienti cosiddetti colti si dicono banalità assurda e questi giorni sono di ignoranza i miei studenti sono di un'ignoranza ma di un'ignoranza e gli dico ma che cosa cioè fammi un esempio dice ma ti rendi conto l'altro giorno nella mia classe trovo uno che non aveva mai letto Calvino non ha mai letto Calvino allora gli do il banale rampante questo torna dopo un mese e cosa mi dice ma bellissimo l'ho fatto leggere anche ai miei genitori gli è piaciuto moltissimo abbiamo parlato a casa ma ti rendi conto l'ignoranza allora io mi sono così tanto arrabbiato che ho detto sai hai ragione pensa che c'è chi non conosce i London Grammar naturalmente tu sai chi sono i London Grammar un gruppo che ha fatto la cultura contemporanea e non conosce le parole dei London Grammar non diciamo quelli che non conoscono Bruce Prinsky ma i London Grammar non li conoscono ma come si fa a vivere senza i London Grammar tu li hai ascoltati naturalmente e questa diciamo capendo che scherzavo no e questa anche lì fa danni irreversibili c'è una persona così che dovrebbe fare i salti da terra che quello ha letto Calvino e l'ha fatto leggere i suoi genitori questo vuol dire che quella famiglia è una famiglia che grazie ai libri alla cultura e tu gli hai fatto scoprire un mondo tu dovresti essere felice e invece vai in giro a dire che questa è l'ignoranza cioè tu sei una bestia no ma così ma veramente tu sei una bestia cioè se è stata messa lì adesso non voglio dire perché è stata messa lì c'entrava un altro signore di sesso maschile che stava sul tau più anziano più anziano di lei più anziano di lei parecchio più anziano di lei e questa è la vergogna del sistema in cui purtroppo anche anche l'università è dentro perché non è che l'università è fuori da questo mondo partecipa degli stessi problemi del mondo no in cui viviamo e quindi la mia speranza è che però diciamo grazie ai testi che io vi ho dato sui documenti rivolto a studentesca diciamo si possa fare un liberismo di quando l'altro giorno facevo il volantinaggio al salone dei libri di Torino tutti mi guardavano dicendo ma come l'editore della terza mi ha iniziato a fare il volantinaggio e diciamo faccio un liberismo movimentista che è una specie diciamo rara no cioè fare il movimentismo sul libero mercato sembra una cosa e invece io credo che questo per esempio sia un tema abbiamo fatto una discussione incasitrice su destra e sinistra in cui c'erano due sinistre quella più tradizionale Pietro Reikling che è un mio amico di scuola molto caro che insegna la Lewis e che viene consigliato uno di destra in realtà lui si considera uno di sinistra che dice il vero grande fondamentale investimento per dare uguaglianza delle opportunità è l'educazione è la formazione è la ricerca è molto più importante investire nell'università che mettere delle barriere all'ingresso della corporazione dei tassisti piuttosto che vincoli al licenziamento degli impiegati pubblici non è quello che crea non sono quelle che creano le garanzie che creano le opportunità le vere opportunità sono fare borse di studio fare un vero sistema serio di borse di studio come quello che ha permesso alle AIP di venire dall'Albania senza una lira e di uscire di qui andare a Oxford come una delle più brave e questo credo che però non c'è una ricetta è una cosa che dobbiamo tutti giorno per giorno nel nostro lavoro cercare di trovare insomma va bene vi ringrazio molto grazie a tutti grazie a tutti